Buongiorno, benvenuti. Stiamo ancora aspettando perché in realtà ci sono 110 iscritti ma non siamo 110 quindi stavamo cercando ancora di aspettare qualche minuto. Vi do, mentre aspettiamo di iniziare in modo ufficiale, vi do un avviso sugli attestati. Come sapete questo evento è stato organizzato grazie alle colleghe del servizio formazione. Per gli attestati mi hanno detto che il personale interno Università di Torino come al solito li troverà nel fascicolo mentre tutti coloro che sono esterni all'Università di Torino e che hanno bisogno di un attestato di presenza possono chiederlo al bancone fuori. Quindi uscendo chiedete l'attestato. Io però a questo punto comincerei perché per rispetto per voi che siete arrivati in orario. Dunque, che dire, vi presento intanto l'avvocato Aliprandi. Copy left Italia. Che cosa possiamo dire? Di Simone. Allora, è uno dei massimi esperti in Italia di diritto d'autore. Ho già tenuto con lui qualche corso e l'ho invitato oggi perché mi piace il suo approccio, perché è un approccio molto pratico. Quindi ci spiegherà che cos'è il diritto d'autore, come si applica, eccetera, eccetera, ma con un taglio anche veramente molto molto pratico. E molto attento, cosa che non è da poco, alle realtà digitali. Invece quello che volevo raccontarvi io in questa mezz'oretta di introduzione riguarda più l'open access, ovviamente. Perché? Perché siamo nella Open Access Week. Quindi International Open Access Week. Quest'anno il tema è Open for Collaboration. Perché ho preso questa mezz'oretta? Perché credo, alla luce di recenti sviluppi che vedremo fra poco, che stia davvero cambiando il panorama. Quindi noi eravamo abituati a ragionare in termini di green e gold. Vi ricordate tutti i nostri corsi? Quindi green, il deposito, che è quello del nostro regolamento di Ateneo. Quindi pubblicate dove volete e poi depositate il postprint nell'archivio. Gold Road, invece, pubblicare su riviste Open Access. Quindi, come dire, fino a qualche anno fa era tutto abbastanza semplice. Adesso i contorni sono decisamente più sfumati. Questo è un poster che è stato presentato al convegno di Ginevra, o ai 9 a giugno. È un poster compilato da due colleghi della biblioteca dell'Università di Utrecht in Olanda. E sono 101 innovazioni nel mondo della comunicazione scientifica. E, come dire, sotto ovviamente avrete le slide, saranno sul sito del convegno, sono a vostra disposizione. Come vedete sotto c'è il link che vi apre tutto quello che viene presentato. Allora, perché è importante tenere conto di queste innovazioni? Non tanto perché, come vedete, qui l'Open Access è uno dei trend. Loro hanno suddiviso fra l'area della scoperta, l'area della scrittura, l'area della pubblicazione, eccetera, eccetera. Nell'area della pubblicazione l'Open Access è ovviamente il fenomeno emergente. Quindi il trend, l'aspettativa è appunto legata all'Open Access. Questo, però, come vedete, ci sono anche altri. Non so se si legge da così lontano. Però ci sono altre opportunità che i ricercatori vedono. Per esempio sul fatto di condividere il loro lavoro in modo sociale. Quindi sugli academic social network. Il fatto, per esempio, di poter utilizzare il testo pieno, quindi il testo integrale, anche per la ricerca. Quindi tutto il discorso legato al text e data mining, eccetera. E' veramente molto carino questo poster. E non è solo da leggere, è anche da, come dire, è partecipativo. Nel senso che fino a febbraio è aperto una survey. Quindi se cliccate su questo indirizzo, potete votare a vostra volta quali sono gli strumenti innovativi che usate. Sarebbe importante diffonderlo anche fra i vostri docenti. Quello che interessa di più ai nostri fini è la ruota. Ho cercato di ingrandirvela qui. Perché, come vedete, almeno in tre punti, quindi sulla disseminazione, come cercare e su come valutare, vedete che compare ResearchGate. Allora, questa è una, come dire, una diatriba, un po' vecchia. Allora, perché noi dobbiamo convincere i nostri docenti, pregarli di depositare i loro lavori in accesso aperto, adottare un regolamento, bla 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 bla, e poi loro li mettono spontaneamente su ResearchGate. Perché vedete quanto è utilizzato. È utilizzato praticamente in tutta la ruota. Perché ResearchGate offre dei servizi. Questo, come dire, in area open access bisogna imparare a ragionare in questi termini. Non più in termini di regolamento, ma in termini di quali servizi offriamo. Allora, in questo senso, vi dicevo, il panorama un pochino sta cambiando. Questo è un servizio, per esempio, molto, molto utile. Anche questo, tutte le cose che vi dico oggi, vi pregherei poi di diffonderle, perché, di diffonderle nei vostri dipartimenti, quindi con i vostri docenti, con quelli che fanno ricerca. Questi due ragazzi molto giovani hanno inventato l'open access button. Che cos'è l'open access button? È una cosa molto semplice che voi vi potete scaricare sul vostro browser. E vi, intanto vi permette di andare al di là dei muri, i famosi paywall, quindi il muro, la barriera del pagamento. Quante volte vi è capitato, se noi non abbiamo accesso a una rivista, voi volete scaricare l'articolo e pay per view, paga 30 dollari e ti scarichi l'articolo. In quel caso lì, se voi cliccate, l'open access button, che cosa fa? Va a cercare sul web se esiste una copia, una versione open access di quel lavoro. Quindi gratuita. Se la versione non esiste, voi la mettete in una sorta di wish list. Quindi se qualcuno ce l'ha, magari ve la manda. E soprattutto contribuite a creare storie. Storie, infatti sul loro sito, adesso lo stanno riorganizzando, quindi non potevo fornirvi i dati. Storie di mancato accesso. Perché noi diamo per scontato che l'accesso alla letteratura scientifica ci sia, ma non è così. Già noi, che siamo un'università molto finanziata, abbiamo fatto dei tagli alle riviste, immaginate in altre situazioni nel mondo. Quindi l'open access button, secondo me, è veramente un buon servizio da offrire ai vostri docenti. Un altro servizio, proprio appena nato la settimana scorsa, è questo. Sapete che in open access ci sono quelli che si chiamano i predatory publishers, quindi quelli che, come dire, editori non tanto seri, che stanno pubblicando riviste open access, in qualche modo cavalcando questa moda dell'open access, pubblicano riviste che non hanno alcuna serietà. L'Università di Helsinki, la settimana scorsa, 15 giorni fa, ha pubblicato un articolo in cui emerge che hanno avuto solo nello scorso anno un giro d'affare di 75 milioni di dollari. Quindi comunque c'è qualcuno che ci casca. Allora, vi ricordate c'era quella famosa lista dell'elenco, quindi l'elenco degli editori poco seri. E adesso è stato inventato questo altro servizio che appunto consente di andare a cercare la rivista. Quindi c'è soprattutto il check. Quindi vai a verificare se la rivista è seria o no prima di pubblicare. E prima di buttare via soldi, evidentemente, perché quelli sono soldi buttati via. Quindi anche questo servizio vi pregherei di diffonderlo perché è veramente molto molto utile. Come sta cambiando il panorama? Sta cambiando perché dobbiamo cominciare a occuparci dei dati. Siamo, si dice, in un periodo in cui la ricerca è sempre più data intensive, quindi non possiamo far finta che i dati non esistano. Sono state emanate delle raccomandazioni da parte di questo progetto europeo che si chiama Recode. Parlare di dati aperti non è facile perché c'è tutto il problema dell'integrità, c'è il problema delle licenze, di cui poi forse parlerà sicuramente l'avvocato Aliprandi. E il messaggio forte è questo, cioè non basta mettere i dati aperti. Ci vuole quella che la Royal Society chiama Intelligent Openness. I dati devono essere aperti ma devono essere ricercabili, devono essere identificabili, quindi con un DOI perché devono essere citati. Per cui non basta, quando parliamo di dati aperti, non significa metto il mio file Excel online. È tutt'altra cosa. Zenodo è un nome da ricordare, è il repository creato dal CERN dove tutti i ricercatori, indipendentemente dal fatto che abbiano un'affiliazione al CERN, possono depositare i loro dataset. Vi dà delle garanzie assolute in termini di conservazione, in termini di accesso, perché è dove depositano i loro terabyte di dati, quindi è assolutamente affidabile. Sapete che in Horizon 2020 c'è il progetto pilota sugli open data. Il progetto pilota sugli open data comporta il fatto che qualcuno, quindi immagino i tecnici, debbano stendere il data management plan. Bisogna imparare come si fa. Quindi su questo sito del Digital Curation Center ci sono una serie infinita di materiali, però per cercare in qualche modo di agevolarvi, a metà novembre stiamo organizzando un evento a Bologna. In realtà sono due giornate, il 18 di novembre più orientato verso i ricercatori, in generale sul valore degli open research data, e il 19 novembre invece più orientato a noi tecnici. Quindi come si fa il data management plan? E verrà appunto una del DCC di Glasgow. Prima mi chiedeva Paola Piscazzi, ma dov'eri lunedì eri a Bruxelles? Sì, lunedì ero a Bruxelles. Ero a questo evento, questo workshop, un'alternative open access publishing models, che è stata una giornata, come dire, secondo me storica. Anche in questo caso c'è un sito su cui potete dire la vostra, quindi a questo indirizzo c'è la discussione ancora aperta, quindi nonostante il workshop sia finito. Perché questa giornata è stata importante? Perché il messaggio chiave di questa giornata, in cui c'erano quattro sessioni con speaker invitati, e poi alla fine una tavola rotonda. Erano invitati editori, erano invitati ricercatori, tecnici, eccetera, eccetera. Il messaggio chiave è stato un altro mondo è possibile. Le cose possono cambiare, possono cambiare in maniera radicale. E la parola chiave è stata ribellione. Nel senso, siamo un po' stufi di pagare gli abbonamenti agli editori, sapete, paghiamo quattro volte la nostra ricerca, eccetera, eccetera. E questo non l'ha detto, l'ha detto il, come dire, il corrispondivo olandese del presidente della Cruy. Quindi le università olandesi, infatti, non hanno firmato il contratto con Elsevier. Bisogna cominciare a prendere queste, come dire, queste azioni forti, per dare un segnale del fatto che siamo un pochino stufi e che la comunicazione scientifica deve essere un'altra cosa. Queste sono alcune facce di editori presenti alla fine del workshop, quindi sono usciti veramente con la faccia di pietra. Il keynote speaker era il professor Gedon, che voi ricorderete perché è venuto a Torino, l'abbiamo invitato tante volte. Lui ha dato il là alla giornata, perché ci ha fatto riflettere sul fatto che, prima di tutto, la scienza per sua natura è collaborativa e non competitiva. Il fatto della competizione è una cosa aggiunta a posteriori dalla valutazione, i grant, i fan, ma la scienza di per sé sarebbe collaborativa. Gli scienziati hanno sempre collaborato fra di loro. L'altro aspetto su cui ci ha fatto riflettere è che bisogna ragionare in termini di qualità, cioè la qualità deve essere diffusa. Se cominciamo a ragionare nei termini di eccellenza, è tutto sbagliato, cioè crolla, perché allora per essere eccellente, per vincere la corsa, lui diceva che la scienza è un network, non sono i giochi olimpici, quindi non c'è qualcuno che deve vincere, perché se qualcuno deve vincere esiste il doping. Quindi allora falsifico i dati, cerco di pubblicare sulle riviste, pubblico anche dati banali, ma perché devo pubblicare. Capite che se diventa una corsa continua si perde la vera natura della scienza. Ovviamente valutiamo la qualità del singolo lavoro e non il prestigio della rivista, questa è tutta la polemica sull'impact factor. ci ha fatto riflettere sul fatto che la scienza ha un approccio più fluido. Pensate a chi scrive codice software. Quanto viene cambiato e quanto è collaborativo la scrittura di un software open source. E poi soprattutto il fatto che la scienza si basi sulla condivisione di idee e di dati. E ci ha dato un approccio, come dire, un po' zen. Nel senso, ci ha fatto riflettere sul fatto che la comunicazione scientifica sia questo processo distribuito di creazione della conoscenza che richiede una grande conversazione. Il tema della grande conversazione ce lo siamo sempre detti in open access. Questo ve l'avevo già anticipato, cioè stiamo parlando di un network e non dei giochi olimpici. Il fatto, per esempio, che la scienza sia in continua evoluzione, lui dice, pensiamo al momento in cui è stata creata la stampa. Se noi avessimo dovuto prefigurare il futuro nel momento della creazione, quindi del passaggio dallo scriptorium alla stampa e ci fossimo messi dal punto di vista dello scriptorium, avremmo pensato come faccia a salvare il monaco, come faccia a salvare il codice mignato, come faccia a salvare... Non è l'atteggiamento giusto. Quindi pensiamo a come sarà la comunicazione scientifica di domani, ma non pensiamo a salvare l'esistente. Non pensiamo a salvare il 38% di guadagni di Elsevier, per favore. Perché quello non è funzionale alla scienza. Quello è funzionale a Elsevier, ma non alla scienza. Quindi lui appunto diceva che cosa serve effettivamente alla scienza. I peers, quindi servono degli scienziati seri che siano esperti della loro materia, e poi quelli che lui chiamava crystals of knowledge. Non siamo più all'articolo scientifico, siamo a un pezzo di conoscenza che viene messo insieme agli altri. La seconda domanda da farsi è non solo come sarà la scienza, ma chi la controlla. Perché ricordiamoci che tutti i database che gli editori ci vendono per calcolare l'impact factor, per calcolare le citazioni, quindi Scopus, Web of Science, adesso Elsevier ci vende anche Scival, che serve di nuovo per la valutazione della ricerca, sono tutte ditte commerciali, esterne alla università. Che però possiedono l'informazione. Quindi anche il discorso di chi controlla è importante. Al contrario, noi dobbiamo porci la domanda che cosa serve alla scienza. Quindi anche il nostro lavoro come tecnici, come ricercatori, come docente, dovrebbe essere in vista di una scienza migliore. La direzione, per esempio, potrebbe essere quella di Open Air. Non so se conoscete Open Air, questo repository nato per raccogliere i risultati della ricerca finanziata con i fondi pubblici European Commission, quindi prima in FP7, adesso in Horizon 2020, è effettivamente un repository che dà dei servizi. Perché se io cerco l'autore, trovo tutte le pubblicazioni legate all'autore. Se cerco l'ente Università di Torino, trovo tutti i grant europei in cui c'è. Quindi vedete che sui dati dei repository si può lavorare, si possono offrire servizi. Quello che si diceva prima, gli stessi servizi che offre ResearchGate, per esempio. In ogni caso, Gheddon ci faceva riflettere sul fatto che i repository devono fare network, quindi mettersi insieme e soprattutto riposizionarsi in modo diverso rispetto ai giornali, ai journals, quindi alle riviste scientifiche. Non devono essere una copia. Per esempio, possono essere la palestra per affrontare e risolvere le sfide comuni, tipo il climate change, quindi le sfide che richiedono un approccio interdisciplinare. Durante il workshop sono state anche, come dire, proposte nuove soluzioni. Questo interessa molto agli umanisti. La Open Library of Humanities è un nuovo, chiamiamolo editore, una nuova piattaforma che pubblicherà libri e riviste in area delle scienze umane e sociali senza il pagamento delle fee, quindi senza il pagamento delle famose article processing fees. Come fanno? Chiedono un contributo alle biblioteche, quindi le biblioteche pagano ma un contributo minimo dell'ordine di 800 euro, quindi veramente minimo per avere questo servizio di qualità. University College of London hanno creato una University Press nuova, appena nata. Intanto vi prego le colleghe bibliotecarie di notare che, secondo lui, quello è il ruolo delle research libraries in questo secolo. Quindi cambia proprio il nostro ruolo. e la cosa importante o la vera novità è che non pubblicheranno solo monografie di ricerca, pubblicano anche i manuali in open access, quindi completamente gratuiti. È un modello da sperimentare, vediamo cosa ne viene fuori. Sono anche stati presentati invece esperienze già viste, già sostenibili, tipo Open Edition, con cui abbiamo una collaborazione qui a Torino, Sielo, Scope 3, e poi invece questo ultimo studio che anche vi invito a leggere di Ralph Schimmer che è della Max Planck Gesellschaft, uno studio globale sui costi coinvolti in questo momento nella comunicazione scientifica, sulla base di questi costi emerge, e spero che si veda in fondo, emerge che noi in questo momento in regime di abbonamento paghiamo ogni articolo da 3.800 in una, come dire, visione rosea a 5.000 dollari per articolo. Se noi quindi in questo momento trasformassimo tutti gli abbonamenti, quindi tutte le riviste in abbonamento, in riviste open access dove si paga l'article processing charge, media di 2.000 dollari ad articolo, perché la media è quella, anziché spendere 7 miliardi di euro ogni anno in abbonamento, spenderemmo, ce l'ho qua, 3,5, 4. Quindi ci sarebbe un risparmio di 3 miliardi. Questo studio è da tenere presente, perché dimostra comunque che non solo con i soldi che già spendiamo adesso è possibile, un altro mondo è possibile, ma che risparmieremmo pure. Quindi mi sembra uno studio anche questo da tenere presente. L'altro atteggiamento molto bello era quello di cambiare prospettiva. Questo l'hanno presentato gli olandesi, di nuovo scienze umane e sociali, quindi passare da riviste che sono editore centriche a riviste che sono ricercatore centriche, come assegnando dei ruoli che in questo momento hanno gli editori, tipo il copyright, il possesso del giornale, tutto il workflow editoriale, eccetera, eccetera, deve passare dagli editori invece ai ricercatori, come con un modello di Fair Open Access. L'altra cosa molto interessante in cui siamo coinvolti come Università di Torino è quella di costruire infrastrutture. C'è questo progetto con Open Edition, quindi Opera, che si prefigge di creare appunto infrastrutture nell'area delle scienze umane e sociali. Va fatta una menzione, cioè perché tutto questo è possibile? Perché è cambiato il commissario alla ricerca e innovazione? Adesso è questo Carlos Moedas che vedete sotto, un portoghese. Questo è quello che disse a un altro convegno a Bruxelles, a giugno. L'innovazione, cioè la scienza eccellente è il fondamento della prosperità futura e l'apertura è la chiave dell'eccellenza, intesa in senso buono, non intesa nel senso competitivo. E poi vedete qual è diventato il suo mantra, osiamo rendere l'Europa open to innovation, open to science, open to the world. Quindi questo è diventato veramente il suo mantra, è il motivo per cui sono possibili tutti questi cambiamenti. Il giorno stesso del workshop di Bruxelles, per quello che vi dico che secondo me è stata una giornata storica, che cosa è successo? che Muedas, quindi il commissario europeo, e Sander Decker, che è sottosegretario del governo olandese che prenderà la presidenza dell'Unione Europea a gennaio, hanno, come dire, tenuto un discorso insieme, congiunto, in cui, che cosa dicevano? Editori, fate sul serio. Quindi, sta cambiando il modo in cui la scienza viene fatta, viene distribuita, eccetera, eccetera. Non è possibile che il mondo editoriale vada avanti senza avere un qualcosa di rompente come è stato nel campo della musica, nel campo del, capite? Quindi, è importante che qualcosa cambi e soprattutto cosa ha detto Muedas? Allora, per ora, Horizon 2020, lo sapete, rimborsa i costi dell'Article Processing Charge. Editori, state attenti, perché se chiedete delle cifre esageratamente alte, potremmo ripensarci. Mi sembra un messaggio veramente molto, molto forte agli editori commerciali. C'è anche qualcos'altro di nuovo, e di nuovo qui è partecipativo, la LERU, quindi la Lega delle Università Europee di Ricerca, lo stesso giorno, ha postato sul suo sito, questo che mi spiace, non si veda, sì, forse si vede perché è giallo, questo bellissimo statement. Siete tutti invitati anche qui a firmarlo, perché c'è a questo indirizzo e potete firmarlo sia come singoli, cercheremo di firmarlo anche come Università di Torino. Il titolo di questo statement è Christmas is over. Tradotto in italiano, è finito il tempo delle vacche grasse. Quindi, cari editori, non esiste più che possiamo pagare abbonamenti, article processing fees, non esiste più. Quindi, cerchiamo tutti insieme di trovare una quadra per avere qualcosa di alternativo. Quindi il famoso un altro mondo è possibile. Qualcosa di vecchio, ve lo ricordo solo, velocissimamente, noi abbiamo un regolamento open access. Quindi, ricordatevi che dobbiamo inserire tutti i prodotti usciti dal 2013 nell'archivio e che, se non hanno la versione consentita per l'open access, non sono valutabili internamente. Vi prego, siccome è partita la VQR, questo era il messaggio spot, fate capire ai vostri docenti che il regolamento università di Torino, open access, IRIS interno, non c'entra assolutamente nulla con la VQR. Cioè, che non vi vengano a chiedere, ma allora se non ho il file open access, non c'entra assolutamente nulla. Regolamento interno università di Torino, VQR nazionale, ANVUR, non c'entra assolutamente nulla. Sempre su Horizon 2020, sappiate che il fatto di depositare in IRIS già da, come dire, vuol dire che siete già compliant con Horizon 2020, ricordatevi il discorso embargo, perché Horizon 2020 chiede al massimo 16 o 12 mesi, se l'editore ha un embargo più alto, è l'unico caso in cui bisogna pagare agli editori tradizionali la open choice, unico caso in cui bisogna pagare. Abbiamo inserito questo passo nuovo in IRIS, vi ricordo di verificare la politica di copyright, e qui ci avviciniamo ai temi che tratterà Simone Aliprandi, vi abbiamo fornito su IRIS tutti gli strumenti per gli editori italiani, editori stranieri, i moduli, avete tutto sulla home page, vi ricordo quando vi si apre la Sherpa Romeo, perché tantissime mail, quello segno di spunta tratteggiato sul post print non significa che è vietato, se è vietato c'è la crocetta rossa, significa solo che ci sono delle limitazioni, anche questo è importante che i vostri docenti lo sappiano perché avrò ricevuto 100 mail di questo tipo, ma non potevo farlo, no, potevi, devi solo leggere le limitazioni sotto. Va bene, questo è come settare l'embargo, mi raccomando, spiegate il valore della licenza, cioè nel momento in cui loro inseriscono un file in aperto, in IRIS aperto, devono assegnare una licenza all'Università di Torino per poter gestire il loro materiale e veniamo a oggi. Allora, come avevamo scritto nell'introduzione, diritti e web è un tema fondamentale per tutti voi, cioè chi si occupa di ricerca, chi si occupa di didattica, chi fa open access e chi farà open data, quindi è un tema, infatti lo dimostra il fatto che abbiamo 110 iscrizioni, quindi è un tema molto caldo, mettiamola così. E prima che appunto Simone inizi, volevo solo lasciarvi con questo concetto chiave, perché parlando con qualcuno, con qualche docente, stanno avviando dei progetti online, progetti di corsi, progetti a non si sono posti questo problema. il problema dei diritti è duplice, ci sono diritti in entrata e diritti in uscita. Diritti in entrata, cioè posso usare il materiale che sto mettendo nelle mie slide? Posso usare il materiale che sto mettendo a lezione, che faccio vedere a lezione e che poi le copisterie si vendono? Quindi quel materiale lo posso usare? Diritti in entrata, diritti in uscita, una volta che ho prodotto la mia opera, che cosa può fare il lettore con la mia opera? Quindi è una prospettiva diversa. E qui mi taccio e comincia Aliprandi come il sole di mezzanotte. è perché stiamo soffocando, ma abbiamo chiesto di... Vuoi che te le mangi avanti io? Ma no, allora, no, faccio io. No, ti preoccupare, perché a volte magari improvviso salto, quindi questo lo posso chiudere. Oh mamma, come non sono più abituato a Windows, è veramente impressionante. Allora, il tastino era questo, no, visto che abbiamo... Sì, ah, eh, l'ho schiacciato, ma... Ah, ok, eccolo. Bene. È diventato luminoso, però, eccolo. Buongiorno a tutti, uso questo perché quattro ore insieme, se sto qua seduto, fermo, ci addormentiamo un po' tutti, quindi mi muoverò un po' lì davanti. Grazie Elena per, beh, innanzitutto per l'invito, per l'iniziativa, perché c'è veramente bisogno di fare attività di divulgazione su questi temi. Ne faccio tante, di, di, faccio tanti di incontri come questi, però appunto, eh, quando sono supportati istituzionalmente, e poi all'interno di una, non abbiamo, sì, l'hai detto prima, che oggi è la settimana dell'Open Access, siamo all'interno della settimana dell'Open Access, quindi, eh, è a maggior ragione oggi, è una giornata in cui è importante fare informazione, divulgazione e sensibilizzazione, ci terrei ad aggiungere su questi temi, proprio perché adesso, con le ultime slide, è segnalato che spesso il problema è di consapevolezza, È detto, basterebbe leggere quelle tre righe, ebbene sì, non si leggono neanche quelle tre righe, spesso, anche quando sono messe in modo semplice, non sono sempre messe in modo semplice, noi giuristi abbiamo il vizio di parlare un linguaggio tutto nostro, ed è questo uno dei problemi che crea un gap tra l'utente medio e i termini d'uso delle varie applicazioni, dei vari siti, facciamo un sondaggio, giusto per capire un attimo chi di voi ha un account Facebook, beh, insomma, chi di questi ha letto i termini d'uso di Facebook? vedi? C'è sempre un gap di un bel po', di un 10% che dicono sì, ho letto. Esattamente questo è l'obiettivo della giornata di oggi, ovvio che dopo quattro ore, forse nemmeno, di seminario da parte di un giurista, non uscite di qua giuristi, tantomeno su una materia così tecnica avanzata come questa. L'obiettivo non è quello di farvi diventare giuristi, ma quello di farvi accendere delle lampadine nei momenti giusti. Quindi mi auguro che dopo la giornata di oggi qualcuno di voi vada a casa con quella consapevolezza in più che gli permette di farsi la domanda giusta al momento giusto, quando appunto deve caricare un filmato su un archivio, deve utilizzare una fotografia trovata in rete da qualche parte. Cioè questo è l'obiettivo di oggi, darvi quegli elementi, quei fondamenti per poter quantomeno orientarsi in questo campo. Poi è ovvio che quando si tratta di gestire questioni più tecniche, più concrete, avrete sempre bisogno del supporto di un ufficio legale, del giurista di turno. Allora, proseguiamo. Questo è la prima slide. Andiamo a tutto schermo, scusate, ma io ancora ho perso totalmente l'abitudine di Windows. Ok, siamo andati a tutto schermo. Queste sono informazioni su di me, non perdiamo troppo tempo, più che altro per Twitter, già se mi avete visto andare là non era perché andavo a prendere il fresco in alto, in realtà in alto fa ancora più caldo, ma perché facevo un po' di foto e mi piace, ho già twittato, mi piaceva twittare un po' l'aula che è veramente spettacolare, quindi bello, veramente complimenti per la location. Però almeno avete anche altre informazioni su di me, più che altro anche il blog, io lo aggiorno abbastanza spesso e pubblico sempre argomenti, post su argomenti che vi possono interessare perché sono tutte le cose di cui parleremo oggi, quindi uno dei post in cui andare a cercare informazioni aggiuntive sulle cose che diremo oggi e che magari vi stimolano curiosità è proprio quello. E poi appunto Twitter, Facebook, su Facebook gestisco anche un gruppo, una community che è quella di Copyleft Italia, lo trovate, il gruppo Copyleft trattino Italia su Facebook è un altro modo, se volete iscrivervi lì oltre a me ci sono altre persone che si occupano di questi temi e che buttano ogni tanto qualche spunto per approfondimento. Basta. Ecco, questi invece sono i due libri da cui io trarrò gran parte delle cose che vi dico oggi, sono i miei due probabilmente best seller, quello è stato tradotto anche in varie lingue, l'esempio di quello sulle credit e commerce è interessante perché io l'ho fatto in italiano, mi sono attivato io per la traduzione in inglese e per quella in spagnolo, l'anno scorso mi arriva via Twitter un tweet di un'associazione culturale no profit degli Emirati Arabi se non ricordo male che mi dice ti comunichiamo che abbiamo realizzato la traduzione in arrobo del tuo libro. Ok, questa è la potenza delle credit e commons io ovviamente il libro parla di credit e commons ma è anche rilasciato sotto licenza credit e commons e ho scoperto che qualcuno ha permesso a una mia opera di essere letta da altri 200 milioni di persone nel mondo non so adesso più o meno le stime dei parlanti arabo nel mondo sono un po' alternanti a seconda della fonte che utilizziamo però mi sono trovato un libro tradotto in una lingua a cui io non avrei mai pensato sinceramente il prossimo step sarebbe stato probabilmente il francese non so o il cinese non lo so ma non mi sarei mai attivato per l'arabo e invece questo è stato un esempio ad ogni modo visto che qua ci sono anche dei bibliotecari vi invito a ordinarli e a metterli in catalogo perché no più che altro perché essendo pubblicati da una piccola casa editrice hanno un po' di problemi di distribuzione come sapete nell'ambito della distribuzione dell'editoria il grosso step è quello di poi portarlo effettivamente al pubblico questi sono libri non è uno spot pubblicitario perché sono libri sotto licenza creative commons potete anche il sito i siti che trovate sotto non sono solo i siti in cui trovate le informazioni editoriali trovate proprio il libro da scaricare però appunto avere il cartaceo spesso a disposizione degli studenti aiuta per quando fanno le tesi per quando fanno le loro ricerche quindi avete occasione magari di di ordinare qualche copia direttamente dall'editore niente io ho preparato una piccola introduzione sulle cose che dobbiamo dire oggi in realtà sono cose che penso sappiate già ma che ci aiutano un po' a inquadrare a tracciare il percorso ad aprire il cammino di questa giornata allora se parliamo di copyright nella digitale questi sono i due temi che vengono che vengono che saltano all'occhio il fatto che parlare di copyright in un mondo in cui la copia è svanita già ci mette in una certa prospettiva nel senso che il copyright l'abbiamo ereditato dalla rivoluzione industriale del 1700 il modello copyright quello classico e ce lo stiamo portando dietro anche in questi anni in questi ultimi 15-20 anni in cui in realtà il passaggio alle tecnologie digitali ha fatto venire meno la copia materiale eppure tutte le norme i principi fondanti del diritto d'autore del copyright sono ancora molto molto legate al concetto di copia questo crea già un primo problema di interpretazione delle norme di percezione delle norme da parte degli utenti perché noi diamo in mano fin dall'età di 11 anni a un ragazzino questo coso qua che al tasto condividi al tasto diffondi al tasto fai la copia lui sta facendo una foto alle mie slide che tra l'altro adesso dopo le metterò quindi non spaventatevi se sono tante così dopo potete riguardarle con calma a casa però capite abbiamo in mano una marea di strumenti che ci permettono di fare copie con a volte anche un'affidabilità che solo qualche anno fa era impensabile eppure il diritto autore ci dice il diritto ci dice che la copia è riservata ok quindi si crea già una discresia tra il dato normativo l'imposizione normativa e poi la realtà sociale quindi già prima riflessione poi il fatto che appunto le tecnologie digitali internet e tutti questi fenomeni in cui siamo stati risucchiati in questi ultimi anni hanno portato questo argomento ad essere non più solo materia di pochi addetti ai lavori come era fino a qualche anno fa in suo prima di diritto d'autore si occupavano chi? gli editori i produttori discografici gli autori professionisti neanche quelli amatoriali perché tanto non avevano contratti di cessione dei diritti quindi non si ponevano il problema e i professori universitari o gli avvocati che si occupavano di questa materia appunto quindi già una nicchia molto stretta vi comunico ad esempio che alla facoltà di giurisprudenza non in tutte le facoltà esiste la materia a volte tra devi fare tu come tesi di laurea scegliere un docente che ti consente di fare una tesi sul diritto d'autore perché in realtà la materia diritto d'autore non esiste nella maggior parte dei casi si chiama diritto industriale o diritto della proprietà intellettuale adesso che è di moda ma nella maggior parte dei casi si studiano i brevetti e i marchi perché sono le due materie più che generano anche più più contenziose più lavoro dopo quando farai la professione quindi invece adesso cosa succede che organizzo un corso nella settimana dell'open access e ci sono 100 persone che si iscrivono e chiedono di seguire un corso di seguire 4 ore sul diritto d'autore eppure non siete giuristi avvocati professori di diritto mi sembra di aver capito dall'elenco degli iscritti che ho visto quindi siete anche provenendo da un mondo diverso interessati ad approfondire questo tema e quindi si pone un problema di comunicazione di divulgazione cioè andate in una libreria e vi chiedete voglio un libro per capire un po' il diritto d'autore e vi arriva un malloppone di 500 pagine scritto da un giurista scritto per giuristi più che scritto da un giurista e questo è il problema e quindi non lo capite e quindi vi irrigidite ulteriormente verso la materia e dite che stress questa materia basta non fa per me non mi interessa e quindi leggerete ancora meno i termini d'uso di Facebook di quanto abbiamo verificato prima nel sondaggio e invece no c'è bisogno di iniziative come quella di oggi come i vari gruppi le varie community che dibattono di questi temi come ad esempio un libro tipo il mio quello di prima e quello di sinistra il capire il copyright è proprio stato scritto proviene da una dispensa che io avevo scritto per un corso rivolto al sistema bibliotecario del comune di Modena quindi era un libro nato per essere rivolto a gente che aveva una formazione principalmente letteraria non so bibliotecari poi a seconda dell'estrazione però non sono nella maggior parte dei casi di estrazione giuridica e queste sono le nuove sfide che vengono poste appunto col digitale al diritto d'autore niente questo è giusto come cappello introduttivo però in ambito accademico si pone anche una questione di consapevolezza l'abbiamo già visto nella presentazione di Elena prima cioè quando abbiamo a che fare con persone che scrivono articoli che hanno un impatto scientifico molto importante è abbastanza tra virgolette la passatemi il termine triste che queste persone che magari hanno due lauree un dottorato e un postdoc non si vogliano interessare ai termini d'uso della loro opera perché caspita se non te ne interessi tu che sei l'autore chi è che se ne deve interessare perché questo è esattamente il gioco che interessa agli editori furbacchioni di cui ci parlava prima perché invece loro sì loro hanno l'ufficio legale apposta che si occupa di queste cose loro sì che se ne interessano no ma ci pensiamo noi non vi preoccupate e questo ci pensiamo noi è quello che ci frega nella maggior parte dei casi perché poi perdiamo il controllo delle opere salvo accorgercene quando è troppo tardi abbiamo firmato un contratto di cessione che dura dieci anni e noi stessi autori dell'opera magari anche scienziati di un certo peso rispettati che andiamo a fare conferenze di fronte a 300 400 persone però non possiamo fare cinque fotocopie ai nostri studenti perché magari qualcuno si arrabbia e dice caspita noi sono io l'editore decido io il diritto di copia di fare copie ok? e poi ogni tanto questi scrivono sui loro blog sui loro siti ah ma questo editore ma io nella maggior parte dei casi dico ma tu perché hai firmato perché hai accettato queste condizioni eh ma io non lo sapevo non me ne sono mai occupato io c'è qualcuno che se ne occupa per me e questo è il problema che volevo porre siamo in un ambito accademico se parliamo di open access parliamo principalmente esquisitamente di letteratura scientifica se parliamo del gruppo musicale emergente il problema probabilmente è un po' diverso ha un impatto anche sociale e culturale diverso qua parliamo di letteratura scientifica una roba che pesa che ha bisogno di essere divulgata e con certi criteri che ci ha già spiegato bene Elena e poi c'è una marea di materiale online sull'open access quindi non perdiamo troppo tempo vabbè non ho messo la slide quella che avevo fatto vedere vabbè ho fatto una slide un po' provocatoria con una specie di test per vedere se uno effettivamente ha un livello di consapevolezza alto o basso su questi temi l'ho risparmiata perché è un po' provocatoria però ve la posso far vedere ve la posso far avere perché è un post che c'è sul mio blog quando parliamo di diritto d'autore anche qui riprendo quello che ha già detto Elena prima in un'ottica più giuridica abbiamo a che fare con queste due ottiche cioè l'ottica del titolare dei diritti e l'ottica dell'utilizzatore dell'opera che è un po' il discorso è un altro modo di dire diritti in entrata diritti in uscita come l'ha spiegato prima cioè quando si parla di diritto d'autore un conto è parlare del diritto d'autore come titolare di diritti d'autore quindi l'autore gli editori i produttori le agenzie altra cosa è parlarne nell'ottica di coloro che invece sono passivi diciamo nella gestione dei diritti devono semplicemente capire quali sono i diritti da rispettare e le cose a cui stare attenti per riutilizzare i materiali ok il problema è che il solito discorso le tecnologie digitali ci hanno portati ad una situazione per cui questo confine si è sfumato molto cioè noi siamo quasi sempre sia da una parte che dall'altra cioè nel momento in cui abbiamo un blog o un account su facebook o gestiamo una pagina facebook e quindi ripubblichiamo la roba di altri siamo sia autori perché abbiamo un ruolo attivo scriviamo il post facciamo un'impaginazione scegliamo la foto piuttosto che un'altra e sia riutilizzatori di opere perché stiamo prendendo roba che comunque proviene da fonti preesistenti e la stiamo ricondividendo e quindi le due ottiche vanno sempre tenute entrambe in considerazione in realtà per il titolo che abbiamo deciso di dare alla giornata di oggi immagini testi online il diritto alla prova del web siamo più nell'ottica del lato utilizzatore di opere mi sembra di capire anche della platea che abbiamo qua ma non possiamo far meno di partire dal lato titolare di diritti perché per capire cosa dobbiamo fare cosa possiamo fare sulle opere dobbiamo capire chi detiene dei diritti su quelle opere quindi la prima parte del corso del seminario sarà proprio dedicato a capire i meccanismi di base dell'acquisizione e la titolarità del diritto d'autore da parte di vari soggetti così capiremo anche con chi abbiamo a che fare cioè quando dobbiamo chiedere il permesso sappiamo a chi chiederlo e questo è il passaggio fondamentale e quindi passiamo alla prima parte cioè diritti d'autore chiudiamo questa introduzione allora abbiate pazienza nel senso che per capire questi temi noi giuristi utilizziamo le norme sono un giurista di istrazione civil law quindi di un contesto europeo continentale quindi per noi la norma è la principale fonte del diritto le leggiamo insieme le commentiamo quindi non sarà una cosa noiosa però spesso si fa prima a leggere la norma perché è più è più facile appunto è più diretto leggere la norma che stare lì a fare tanti giri di parole l'articolo 1 della legge sul diritto d'autore italiana legge se tratta del 41 ci dice effettivamente di cosa si occupa il diritto d'autore cosa non banale perché sento spesso confusioni con il brevetto con il marchio col design che sono altri istituti giuridici l'articolo 1 ci dice quali sono qual è l'oggetto cioè che cosa tutela il diritto d'autore di preciso sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo questo è l'oggetto della tutela del diritto d'autore opere dell'ingegno di carattere creativo quindi la creatività il carattere creativo è il requisito che fa scattare la tutela del diritto d'autore ci deve essere un'attività creativa se io non faccio altro che copiare e ripercorrere ciò che è già stato fatto da altri non sto facendo attività creativa e quindi non scatta un diritto d'autore io non posso vantare un diritto su quella roba tempiatura la riproduzione di qualcosa fatto da altri e ci aggiunge che appartengono alla letteratura alla musica alle arti figurative all'architettura al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo la forma di espressione quindi molto ampio il campo d'azione perché con questa chiusa finale si dice qualunque ne sia la forma di espressione il legislatore del 41 ha pensato che comunque ha intuito che con l'evoluzione della tecnologia della comunicazione le forme di creatività sarebbero state diverse rispetto a quelle lì che sono quelle classiche non c'è tutta la parte sulla creatività multimediale che è quella che adesso è probabilmente la principale fonte di creatività la principale forma di creatività però in realtà la creatività multimediale è un mix di tutte queste cose perché se io faccio un sito web ho dentro letteratura perché ci sono dentro testi ho dentro musica probabilmente perché ci sono dei sottofondo musicali ci sono dei filmati quindi c'è anche una parte cinematografica arti figurative perché c'è la grafica quindi in realtà comunque stiamo andando a pescare da queste forme di creatività che sono quelle classiche il secondo come è stato aggiunto successivamente rispetto al 41 ovviamente perché parla di software e banche dati il legislatore 41 fino a lì non poteva arrivare e ci dice che sono altresì protetti i programmi per il laboratore come opere letterarie nonché le banche didattiche per la scelta e la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore vi è tutto chiaro in questa in questa slide vi è chiaro anche il fatto che dica che i programmi per il laboratore sono tutelati come opere letterarie e qua c'è silenzio sempre vi suona strano o vi sembra normale vi sembra logica come cosa il software come opera letteraria nessuno sviluppa software prego ok esatto questo volevo sapere lui dice il software è codice scritto gli sviluppatori i miei colleghi sviluppatori io lavoro anche come legale di una fondazione che sviluppa software loro sviluppano in linguaggi di programmazione e sanno dire se una cosa è stata scritta bene o scritta male se questa cosa si poteva scrivere prima o dopo se questa cosa si poteva evitare di scriverla quindi con gli stessi criteri con cui la mia professoressa delle medie mi correggeva il tema lo so che è diverso è un modo di scrivere molto diverso però i linguaggi di programmazione sono a tutti gli effetti delle lingue tant'è che c'era la battuta tra gli informatici che la quinta lingua più studiata si dice che l'italiano è la quarta o quinta lingua più studiata al mondo ma in realtà prima c'è Python che è un linguaggio di programmazione uno dei più adesso linguaggio di programmazione più in voga in questo momento ok quindi adesso oggi non è una lezione sulla tutela del software se no dovremmo spendere altre due ore per parlare di questa cosa però il fatto che sia stato equiparato il codice del software il codice sorgente del software all'opera letteraria è ciò che fa sì che il software finisca sotto la tutela del diritto d'autore se no probabilmente sarebbe stato anche tutelabile con il brevetto questo era un dibattito che si era aperto negli anni 70 quando il software è arrivato sul mercato sul dubbio su quale fosse il tipo di tutela giuridica da applicare al software poi la scienza giuridica ha detto no ma se noi andiamo a pensare al software come codice sorgente quindi come elenco di istruzioni che l'essere umano dà alla macchina per fare delle cose allora quello è più simile ad un'opera letterale e quindi diritto d'autore per grande felicità delle case produttive di software dell'epoca che col diritto d'autore avevano innanzitutto 70 anni di tutela dalla morte dell'autore quindi una tutela molto più lunga rispetto ai 20 anni del brevetto e soprattutto una tutela gratuita dopo lo vedremo il diritto d'autore si acquisisce senza dover pagare il deposito ad un ufficio brevetti che invece spesso costa molto e poi più che l'ufficio brevetti proprio la descrizione di un'invenzione per la brevetazione è un'attività molto costosa e quindi in quel caso il software andando a finire sotto il diritto d'autore ha reso le cose più facili all'industria del software e beh le banche dati non riusciremo a parlarne troppo nel dettaglio però visto che si parla anche di archivi aperti in tema di open access è un nuovo diritto soprattutto arrivato in Europa nel 96 scusate ecco 92 la tutela sul software in Italia e 96 la direttiva la direttiva europea sul software scusate sulle banche dati che ha creato questo strano diritto che si chiama diritto sui generis che appunto tutela le banche dati e i dati in esse contenuti dall'estrazione dal riutilizzo di parti sostanziali del database lo vedremo magari più alla fine della giornata se riusciamo ma è molto difficile l'articolo 2 della legge cosa fa? non fa altro che dettagliare maggiormente l'elenco che sostanzialmente trovavamo già nell'articolo 1 ce lo divide in 10 punti l'ho diviso in due slide allora cosa ci dice? che sono in particolare protette perché dice in particolare? perché in realtà c'era quella forma d'apertura che diceva qualunque ne sia il modo la forma di espressione quindi anche se non siamo sotto questi 10 punti espressi e ci sono delle nuove forme di creatività che li toccano qualcuno siamo comunque sotto l'ambito del diritto d'autore però in particolare la legge cita questi 10 casi le opere letterarie drammatiche scientifiche didattiche religiose tanto se in forma scritta che in forma orale le opere le composizioni musicali con o senza parole eccetera le opere coreografiche pantomimiche delle quali si è fissata una traccia ecco ogni tanto troverete delle parole che sono tipiche del linguaggio degli anni 40 nel senso che questa è una norma fino a qua è rimasta uguale a se stessa da 41 ovviamente la legge è del 41 ma non è rimasta uguale a se stessa è stata più volte aggiornata fino a qualche anno fa quindi non scandalizzatevi quando vedete legge se è trattata del 41 è vecchia in effetti l'impianto è vecchio però è stata più volte aggiornata e il fatto è che ogni tanto troviamo delle parole delle diciture dei modi di dire che sono difficilmente adesso l'esilatore utilizzerebbe la parola pantomimiche ok però c'è le opere della scultura della pittura dell'arte del disegno della incisione delle arti figurative similari compresa la scenografia i disegni e le opere dell'architettura le opere dell'arte cinematografica muto sonora altra rinuniscenza degli anni 40 le opere fotografiche quelle espresse con procedimento analogo a quella della fotografia qui l'esilatore è stato lungimirante negli anni 40 la fotografia ovviamente non era quella digitale che abbiamo adesso c'erano probabilmente ancora le lastre o stanno arrivando i primi rullini però ho pensato che questa forma di creatività si sarebbe facilmente presto evoluta infatti siamo arrivati anche qui ad una fotografia che in realtà non ha più un supporto vero e proprio la macchina fotografica digitale scatta e crea subito dei dati trasforma l'immagine in elenchi di 0 e 1 quindi digitalizza istantaneamente la nostra immagine la norma procede poi con questi punti 8, 9, 10 questi ultimi tre punti aggiunti in virtù delle varie direttive europee e riforme che si sono sosseguiti poi negli anni 90 allora i programmi per l'elaboratore l'abbiamo già spiegato in qualsiasi forma espressa i purché originali qual è il risultato di creazione intellettuale dell'autore ovviamente se il programma per l'elaboratore non è altro che è un elenco di la classica libreria di funzioni dove non c'è creatività perché perché è una cosa già nota e tutti i software quella roba lì la fanno in quel modo lì lì non c'è creatività perché non potremmo fare diversamente quindi chiunque la farebbe in quel modo lì ok lì non scatta creatività e quindi non c'è un diritto d'autore sì grazie grazie ottimo e ho fatto una foto perché è fantastico c'è il logo della vodka però su facebook ho specificato che c'è dentro acqua perché non vorrei che pensassero che io per è vodka grazie per avermi confortato pubblicamente allora le banche di dati di cui a secondo coma beh anche qua dovremmo spendere tante parole abbiamo già accennato prima le banche di dati sottostanno ad una tutela un po' particolare che è duplice sia di diritto d'autore se la banca di dati è creativa a carattere creativo sia sotto questo strano diritto del diritto che si chiama diritto sui generis che appunto è sui generis perché è diverso da qualsiasi altro tipo di diritto di proprietà intellettuale e infine punto 10 questo è stato aggiunto nei primi anni 2000 le opere del design industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico l'unico caso in cui la legge del suo diritto d'autore richiede oltre a carattere creativo anche il valore artistico che è qualcosa in più ok questa slide mi serve questa norma che è tratta da i TRIPS che sono degli accordi internazionali anche qua primi anni 90 94 se ricordo bene sulla proprietà intellettuale trattato internazionale sui diritti proprietà intellettuale sarebbe ci fa capire al negativo dove non arriva il diritto d'autore cioè là abbiamo capito qual è il campo d'azione però vediamo visto che c'è la tendenza a vantare diritti anche su cose che non sono tutelate ad esempio il classico equivoco io su quell'idea ho il copyright quanti di voi l'hanno sentita o l'hanno anche magari detta non c'è un copyright sulle idee ma adesso lo leggiamo la protezione del diritto d'autore copre che cosa le espressioni e non le idee i procedimenti i metodi di funzionamento i concetti matematici in quanto tali ok è come io esprimo l'idea estrinseco la mia idea creativa non l'idea in sé ok perché se no non avremmo manuali di matematica se non quelli del 1800 non so ci saremmo fermati ai primi manuali negli anni in cui c'era un diritto d'autore in cui c'era un copyright perché perché tanto più o meno la matematica come scienza è uguale a se stessa da millenni diciamo da secoli e quindi nessun altro può esprimere quei concetti no per fortuna no abbiamo manuali in una libreria scolastica universitaria abbiamo manuali di matematica di vario tipo quelli per la scuola superiore per la scuola media per la facoltà di architettura per la facoltà di ingegneria e via dicendo ok a seconda di come l'autore sceglie di descrivere le formule matematiche i principi matematici detiene un diritto d'autore su quella espressione gli esercizi che vengono fatti come esempi la grafica del libro l'impaginazione ok quello sì ma non sul concetto che ci sta sotto questo è un passaggio fondamentale perché io quando sento adesso è un periodo in cui si parla spesso di start up di aziende innovative dove effettivamente lì il punto di forza della start up è l'idea che ci sta sotto il modello di business si dice no tecnicamente e a volte vengono da me come avvocato a chiedere scusi ma io come faccio a tutelare questo modello di business io gli rispondo semplicemente non lo dica nessuno nel senso che non c'è altro non c'è altro modo per tutelare se la tua potenza la tua forza sta nell'idea nel modello di business l'unica cosa che puoi fare è non dirla a nessuno e se sei costretto a dirla perché a volte devi andare a parlare con gli investitori spiegare il tuo progetto semplicemente accetta il rischio che qualcuno sia più bravo ed efficace di te a realizzare queste idee quindi è uno stimolo a realizzarla il prima possibile nel modo il più performante ed efficace possibile però adesso rimanendo sul nostro campo impariamo questo concetto fondamentale per capirlo meglio in realtà si usa solitamente l'esempio cioè si fa si richiama la teoria espressa dal giurista tedesco Köhler che è questa che addirittura aggiunge una categoria in più cioè lui divide in forma esterna forma interna e contenuto se leggiamo si capisce abbastanza chiaro allora la forma esterna è la forma con cui l'opera appare nella sua versione originaria l'insieme di parole o frasi nell'opera letteraria nella melodia ritmo armonia nell'opera musicale eccetera la forma interna invece è la struttura espositiva dell'opera quindi l'organizzazione del discorso la scelta la sequenza degli argomenti nell'opera letteraria oppure i passaggi essenziali del discorso musicale o nelle note determinanti la linea melodica quando parliamo di opera musicale mentre il contenuto in realtà quello che abbiamo visto prima è l'argomento trattato le informazioni i fatti le idee le opinioni le teorie in quanto tali e cioè a prescindere dal modo in cui sono stati scelti coordinati presentati ok secondo il giurista Cuellar il diritto autore si ferma secondo voi a quale di questi livelli cosa copre di questi tre e cosa no forma esterna e forma interna esatto risposta esatta perché comunque la forma interna già comporta una scelta creativa ok il fatto che io decida di parlare se voi prendete il mio manuale sul diritto autore in alcune parti ho seguito la legge ho seguito l'ordine degli articoli e quindi lì in realtà posso vantare poca creatività dal punto di vista della forma interna forma esterna sì perché le parole le ho scritte io però probabilmente un altro manuale di diritto autore avrebbe fatto lo stesso percorso di argomenti però per quanto riguarda il concept generale del libro in realtà è abbastanza originale perché io sono stato uno dei primi a girare alcuni argomenti e metterli prima in maggior luce rispetto ad altri rispetto al manuale giuridico classico ok quindi quella roba lì è forma interna mentre il contenuto no il contenuto è di per sé libero tutti possono vedendo il filmato che realizzeremo di questa giornata fare un'altra conferenza che tratta gli stessi argomenti che tratto io dicendo più o meno anche le stesse cose anzi mi fa piacere che poi ci sia un galateo arrivo un galateo accademico un galateo intellettuale in cui si usa riconoscere a un altro essere arrivato prima a dire una cosa questo è un altro piano dopo lo vedremo però non siamo su un discorso di copyright di diritto di fare copie prego i personaggi allora lui dice il caso del personaggio di finzione dei personaggi di fantasia Harry Potter Topolino Batman ok quelli sono opere dell'ingegno e c'è tutta una tutela non rientra nessuno dei dieci elenchi che abbiamo visto prima ma hanno caratteristiche tipiche di tutti di quegli elementi perché Batman ha una sua veste grafica cioè Batman si veste in un certo modo è fatto in un certo modo ma anche di Harry Potter c'è il disegno il personaggio è caratterizzato molto la fanfic se siamo in un ambito di tributo e di satira di parodia c'è un discorso di libera utilizzazione dopo lo vediamo cioè il diritto autore si fa da parte ma momentaneamente in virtù di un diritto di fair use che è onesto nel senso che non viola particolarmente bisogna vedere a che livelli a volte ad alcuni livelli sì c'è una violazione del diritto autore cioè difficilmente posso fare un fumetto che ha poi l'han fatto però che ha come appunto protagonista un uomo che si veste di nero che si ispira al pipistrello che è figlio che non vive con nessuno ma vive solo con un maggiordomo cioè tutti questi elementi cominciano ad essere un po' troppo caratterizzanti del personaggio e entrano nella forma interna la forma esterna magari no perché io invece di farlo nero lo faccio verde ok oppure invece di farlo alto e muscoloso lo faccio basso e magrolino però se comincio ad aggiungere elementi che richiamano sostanzialmente allo stesso personaggio lì la DC Comics la titolare dei diritti mi telefona mi dice ma sai che forse a noi non ci piace molto sta cosa prego una domanda là dietro arrivo sì no no giustamente la signora dice qua stiamo parlando di norme italiane allora sì perdonatemi io sono un giurista italiano e siamo in un'aula di una università italiana la scelta principale era quella di partire comunque dal contesto giuridico italiano che poi comunque è abbastanza coerente con quello che è il contesto prima la norma che abbiamo visto prima quella dei TRIPS è un trattato internazionale quindi quella lì in realtà è una norma italiana questo qua è un giurista tedesco quindi anche qui è una teoria è una teoria che va della dottrina giuridica che va al di là dei confini degli stati però sì per la definizione di alcune cose ho preso le norme italiane ma perché sono più semplici ripeto facciamo prima partire da quelle ma ci servono semplicemente come come punto di partenza per capire i concetti comunque vabbè la seconda slide sulla teoria di Queller è questa in cui avete già risposto secondo tale teoria la tutela per oggetto sia la forma esterna che interna ma non arriva al contenuto quindi diritto d'autore si dice che protegge la forma espressiva di un'opera e non il suo contenuto attenzione questo è un passaggio veramente fondamentale ecco questa non la faccio vedere perché non voglio rovinarvi la sorpresa arriviamo a parlare di come abbiamo capito qual è il campo d'azione del diritto d'autore e dove non arriva questo mi sembra abbastanza chiaro adesso chiediamoci come fa un autore che ha creato una di quelle cose dal punto 1 al punto 10 ad avere il famoso diritto d'autore immagino che voi abbiate già perché so che solitamente su questo tema ci sono varie credenze popolari a volte vere a volte parzialmente vere a volte pesantemente false cioè secondo voi come faccio io che scrivo il mio articolo scientifico oppure io che scatto la mia fotografia artistica ad acquisire il diritto d'autore su quell'opera prego si aprono le possibilità innanzitutto pubblicarla lui dice così senza fare nulla io la pubblico se non la pubblico non ho il diritto non ho la prova che però io sto la mia domanda è non è tanto come proviamo la titolarità io sto chiedendo come acquisisco la titolarità del diritto sono due piani che per noi giuristi sono molto importanti a tenere distinti un conto è il diritto sostanziale un conto è la questione probatoria cioè di come dimostro una situazione giuridica a volte ci sono dei processi che si basano su delle prove molto forti e si riescono a convincere il giudice a dar ragione a chi magari in realtà tutta questa ragione nella realtà non l'aveva e viceversa gente che ha palesemente ragione e che non riesce a portare prove sostanziali sostanziose e convincenti al giudice perde la causa quindi per noi giuristi di tenere separati i due piani è molto importante però appunto non abbiamo ancora risposto allora come faccio ad acquisire i diritti d'autore sulla mia opera ce li hai così senza fare nulla nel momento in cui ok siete tutti d'accordo su questa impostazione strano nessuno mi ha detto devo depositarla alla SIAE quindi siamo abbiamo già fatto un passo no perché solitamente questa è una delle principali leggende soprattutto tra i musicisti c'è sta cosa se non mi scrivo alla SIAE non ho i diritti d'autore oppure se non deposito l'opera alla SIAE non ho il diritto d'autore se a volte poi arrivano quelli che dicono ah però io vado c'è un amico che fa il notaio e lui me lo fa gratis prende in deposito la mia opera io da quel momento ho il diritto d'autore tutte cose che in realtà sono vere però torniamo sul discorso che facevamo prima cioè che attengono alla fase della prova non dell'acquisizione del diritto è ovvio che se io ho qualcosa di solido che dimostra che sono arrivato prima di un altro sostanzialmente che dà una data certa al documento sto più tranquillo ma sto più tranquillo nel caso qualcun altro faccia il furbo ma ciò non incide su come io ho acquisito i diritti d'autore effettivamente la risposta esatta è quella che avete detto che hanno detto alcuni di voi cioè con la semplice creazione dell'opera cioè se l'opera creata ha quel minimo requisito di creatività la legge prevede che già di default automaticamente l'autore abbia diritti anche se la tengo nel cassetto per questo che dicevo non ero d'accordo sul discorso del pubblicarla pubblicarla ci dà forse quella quella prima parvenza di prova di data certa perché pubblicando da qualche parte qualcuno comincia a vederla e c'è gente che può dimostrare che in quella data esisteva prima un'opera però io potrei anche avere dei diritti su un'opera che ho scritto tenuto nel cassetto perché non mi ha mai convinto e poi decido di pubblicarla successivamente ma io avevo già il diritto d'autore non è che se qualcuno la trova nel mio cassetto la donna delle pulizie la trova e dice ma tanto non l'ha pubblicata allora adesso la pubblico io diventa mia occhio perché infatti dice la legge articolo 6 il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera stessa quale particolare espressione del lavoro intellettuale è un articolo molto molto sintetico in realtà se potremmo fermare anche alla virgola è costituito dalla creazione dell'opera punto poi com'è? ovvio nel senso che deve essere l'opera ricollegata e ricollegabile ad un autore in realtà poi vedremo nei diritti morali che c'è possibilità di pubblicare l'opera anonima ci sono opere che sono state pubblicate anonime o pseudonime senza che il pubblico sapesse effettivamente chi ci fosse detto a quello pseudonimo però uno dei diritti morali d'autore li vediamo dopo è proprio quello di dichiararsi quando si desidera come autore anche successivamente è un diritto che nessuno ci può togliere quindi anche quando un'opera è stata pubblicata pseudonima o anonima un discorso borderline si potrebbe fare sui famosi ghost writer cioè quelli che scrivono per le altri che è una categoria professionale specifica che crea effettivamente dei problemi dal punto di vista del diritto d'autore della titolata del diritto è una cosa che si utilizza spesso in ambito politico cioè politici che fanno scrivere i loro discorsi più importanti o le loro lettere pubbliche più importanti i loro articoli ad altre persone ma li firmano però non entriamo in questi risvolti se no non usciamo vivi mi interessa proprio mettere a fuoco questa norma perché è una delle norme fondanti del diritto d'autore quindi il titolo originario dell'acquisto del diritto in giro di parole che noi giuristi utilizziamo per dire che l'autore acquisisce originariamente il diritto con la semplice creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale questo lo sottolinea perché noi siamo giuristi nel nostro sistema di diritto d'autore figlio del diritto d'autore francese della rivoluzione francese che aveva messo al centro proprio la figura dell'autore come persona come individuo e il lavoro cioè alcuni giuristi parlano del diritto d'autore come il diritto del lavoro di coloro che di lavoro fanno gli autori creativi cioè il vostro diritto di lavoro di dipendenti pubblici se non siete tutti dipendenti pubblici però è l'accordo sindacale è il contratto che avete fatto sono le norme del diritto sindacale per uno che di lavoro fa il creativo e fa solo quello il suo diritto del lavoro è il diritto d'autore ok quindi quale particolare espressione del lavoro intellettuale questo è quello che ci sta trasmettendo questa seconda parte della norma questo schema allora di brevetti oggi non parliamo però è uno schema che assolutamente aiuta a capire perché mette a fuoco anche alcuni concetti del diritto d'autore è uno schema che io ho fatto nel mio libro per aiutare a non confondere il diritto d'autore col brevetto perché spesso c'è il classico errore del acquisisco il diritto d'autore solo quando deposito l'opera alla SIA è proprio quello nel senso che è proprio il brevetto che si acquisisce così cioè tu non sei titolare di nessun diritto finché non hai depositato l'invenzione la descrizione dell'invenzione presso l'ufficio brevetti il marchio funziona così io non ho un diritto di marchio finché non ho depositato il marchio l'ufficio marchi diritto d'autore no ed è la dov'è la seconda e l'ultima che sono importanti perché questi qua sono gratuiti cioè l'acquisizione dei diritti d'autore è gratuita quindi l'esempio che vi dicevo prima dell'industria del software che all'epoca era un'industria piccola emergente faceva comodo il fatto che il diritto d'autore si acquisisse gratuitamente liberamente senza particolari formalità invece no nel brevetto abbiamo costi di redazione se andate a chiedere all'ufficio di ritti dell'università di Torino chiedete quanto costa fare un brevetto tecnologico e vi rispondono che sono tanti soldi e non sono tanto i soldi che vi chiede l'ufficio brevetti per la pratica amministrativa è la descrizione del brevetto che costa cara perché la fanno solitamente uffici iprospecialistici in cui lavorano ingegneri e avvocati che di lavoro fanno solo brevetti e quindi li pagate e traduttori anche perché bisogna poi tradurre in lingua a volte la descrizione e si parla di 500 pagine di descrizione a volte questi specialisti li pagate a botte di 500 euro all'ora quindi fatevi un po' di ragionamenti quanto può costare si parla anche di 50.000 100.000 dollari per registrare un brevetto per descrivere e depositare il brevetto allora però riguardiamoli tutti con calma allora oggetto da tutela mi sembra che sia chiaro opere dell'ingegno di carattere creativo invece di là abbiamo invenzioni modelli di utilità e varietà vegetali ripeto non perdiamo troppo tempo sui brevetti però il concetto di invenzione mi sembra chiaro basta lo zingarelli per non confonderlo con opera creativa l'autore che scrive un brano musicale non sta inventando il brano musicale sta scrivendo il brano musicale sta creando un brano musicale ok e viceversa Meucci non ha creato il telefono ha inventato il telefono ok sembra no lo sottolineo perché a volte sembra scontato ma invece poi nel gergo giornalistico lo sento ancora giornalisti importanti che parlano di l'inventore di quel software sul software siamo un po' borderline però anche lì sul software se siamo sotto l'ambito del diritto autore non dovremmo parlare di invenzione acquisizione del diritto è quello che abbiamo detto tante volte non ripetiamolo più requisiti per la tutelabilità ecco il diritto autore chiede il carattere creativo che possiamo parlare di originalità più novità dell'opera non perdiamoci troppo tempo sono le due estrinsecazioni che la dottrina giuridica ha individuato nel carattere creativo e invece per il brevetto attività inventiva novità liceità e applicazione industriale anche questo la prossima riga è importante cioè titolare originario dei diritti allora nell'ambito del diritto autore soprattutto quello italiano quello diciamo di matrice figlio diciamo del diritto francese come vi ho detto prima è sempre l'autore cioè la persona fisica il creativo tranne in alcune eccezioni che forse dopo vi segnalano all'interno della legge della legge sul diritto autore però è sempre la persona fisica il dipendente che scrive se qualcuno di voi scrive per un giornale è il giornalista che è titolare del diritto d'autore sui pezzi non è la casa editrice del giornale è che semplicemente quando diventate dipendenti di un giornale firmate all'interno del contratto di lavoro anche un'accessione dei diritti ok ma siete voi comunque originariamente titolari dei diritti e vale anche per il software anche per le banche tranne appunto in alcuni casi appunto software banche dati e design dicono che se si è dipendenti e lo si sta facendo nell'esecuzione delle proprie mansioni allora in quel caso il diritto d'autore viene avvocato viene subito in capo sorge subito in capo all'azienda però nella maggior parte dei casi l'autore del brano musicale l'autore della fotografia l'autore dell'articolo sono loro la persona fisica creativa che ha avuto lo spunto creativo titolare dei diritti per quanto riguarda il brevetto è esattamente il contrario invece non interessa a nessuno chi ha avuto l'idea chi ha avuto lo spunto inventivo è colui che va a depositare motivo per cui difficilmente gli inventori sono per singole anche se nei film poi lo vediamo romanzati l'inventore che va all'ufficio a fare la fila in realtà sono la maggior parte dei casi aziende perché deve avere qualcuno che ti paga quei 50.000 dollari che abbiamo detto prima e quindi chi diventa titolare dei diritti è esattamente il soggetto che è registrato non è quasi mai l'inventore poi l'inventore ha comunque un diritto fra virgolette morale di essere citato di essere coinvolto nel processo inventivo ma la titolarità del diritto è di colui che effettua la registrazione la durata altro aspetto fondamentale di differenza non da poco 70 anni della morte dell'autore per i diritti dell'autore è un termine mostruosamente lungo perché 70 anni dalla morte dell'autore attenzione vuol dire che il diritto dura per tutta la vita dell'autore più altri 70 anni 70 anni solari quindi a volte sono quasi 71 perché se l'autore muore il 2 di gennaio bisogna aspettare che finisca tutto quell'anno e si contano 70 quindi al primo gennaio di ogni anno entrano nel pubblico dominio nuove opere e quindi se un autore scrive un'opera a 18-19 anni e muore a 95 capite quanto sono due secoli quasi di tutela vent'anni della registrazione invece è una data molto secca perché? perché si va all'ufficio brevetti si chiede quando è stata la data di registrazione e da lì si contano vent'anni non è che si scappa tanto quindi i diritti farmaceutici adesso sono scaduti quest'anno alcuni diritti sull'MP3 sul formato di compressione della musica MP3 ma solo alcuni quindi in realtà alcuni miei colleghi esperti brevetti mi segnalano di essere cauti a dire che l'MP3 è uscito è diventato di pubblico dominio però in ambito farmaceutico si diceva che il Viagra sta scadendo o è scaduto quest'anno o scade l'anno prossimo o qualcosa del genere costi vabbè anche questo l'abbiamo già detto non perdiamo altro tempo che è chiara questa tabella aiuta a mettere a fuoco più che altro anche se ci fermiamo sul diritto d'autore è già d'aiuto ok capiti questi meccanismi prego no allora se parliamo di diritti d'autore si calcola sempre dal si guarda visto che sono diritti d'autore è l'autore che conta cioè si guarda quando è morto lui e si contano gli anni l'editore può avere dei suoi diritti che sono altri diritti che non chiameremo strettamente diritti d'autore perché non è l'autore l'editore come d'altronde il produttore discografico cioè il produttore che è colui che finanzia la registrazione di un cd di un disco non è l'autore dei brani e quindi lui non avrà dei diritti d'autore ha dei diritti che dopo li vediamo si chiamano diritti connessi che hanno una loro durata separata si sovrappongono a quelli dei diritti d'autore adesso su quello arriviamo sì meglio che parlare nel microfono perché sennò chi registra a casa non sente allora c'è il problema dei libri scritti in coppia o eventualmente anche più di due tipo i romanzi di Fruttero e Lucentini che ovviamente poi muoiono a diversa distanza di anni quindi in quel caso lì il romanzo La donna della domenica quando è che esce fuori dai diritti? rispondo con una parola che mi sono dimicato di dire dalla morte dell'ultimo autore ho risposto nel senso che facciamo un altro esempio più noto quando scadono i diritti di Let it be dei Beatles? la risposta è non lo sappiamo nel senso che uno è ancora vivo e vegeto e quindi bisogna aspettare anche Moe e Paul McCartney e si incontrano i 70 anni non è che si fa allora se avessimo con certezza sapessimo con certezza che lei non ha scritto le parole e McCartney ha scritto le musiche forse potremmo fare un ragionamento separato e dire ok lei non è morta nell'80 calcoliamo i 70 anni però quella parte lì in realtà non funziona proprio così perché è un brano musicale quindi è stato scritto per funzionare insieme musica e parole quindi difficilmente separabili due contributi però è per fare un esempio ma in realtà la legge dice morte dell'ultimo autore quindi in quel caso se il contributo non è separabile bisogna aspettare che muoiano tutti e due e si contano i 70 anni della morte dell'ultimo motivo per cui alcuni autori firmano i brani musicali o i loro articoli lo è col figlio anche se il figlio non aveva nessun tipo di contributo creativo perché diciamo che garantisci vita ulteriore all'opera e alla tua famiglia ok passiamo a una fase passiamo a un passo ulteriore quali sono i precisi diritti acquisiti abbiamo capito come si acquisisse il diritto d'autore abbiamo parlato per adesso di diritto d'autore quasi al singolare come se fosse un tutt'uno invece vi dico che in realtà è un bel pacchettone di diritti è un fascio di diritti diciamo tecnicamente noi giuristi perché perché appunto nella dicitura diritto d'autore generica diritto d'autore abbiamo una serie di sottodiritti che l'autore può decidere di gestire separatamente adesso ve li faccio vedere così capite non spaventatevi perché questi qua sono esattamente tutti i diritti che la legge su diritto d'autore italiana prevede vedete che c'è già una prima una prima dicotomia diritti di tipo personale diritti di tipo patrimoniale i diritti di tipo personale allora ci perdiamo pochi minuti perché se no anche di qua non usciamo vivi però sono quelli che vi ho citato prima chiamandoli diritti morali facendovi l'esempio delle opere anonime e pseudonime che è il terzo trattino dello schema ci dice che vediamo se riesco a fare uno zoom no vabbè si legge comunque allora innanzitutto diamo un po' di caratteristiche comuni di questi quattro diritti morali sono diritti inalienabili inestinguibili e strettamente legati alla personalità creativa dell'autore quindi diciamo che potremmo chiamare diritti morali ma anche reputazionali cioè legati alla sfera reputazionale dell'autore al fatto che lui voglia mantenere una certa credibilità e un certo legame morale con la sua opera ad esempio il diritto di rivendicare la paternità dell'opera quello che vi dicevo prima cioè l'autore può sempre esercitare questo diritto il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore altro diritto che ha una qualificazione estrettamente morale reputazionale qualcuno mi fa un esempio di una modifica all'opera che può essere lesiva della reputazione dell'autore qua ne vengono fuori sempre di divertenti è capitato l'architetto allora lo ripeto perché non sento lui dice nel caso per esigenza e sicurezza modificare un edificio contrariamente a quanto invece l'architetto gradisce aveva previsto e quindi cosa è successo l'architetto si è indispettito e ha chiesto ha esercitato un diritto di questo tipo ok ha minacciato di ok allora sì è un esempio che non avevano mai fatto interessante lo utilizzerò grazie lo utilizzerò nelle prossime elezioni perché è borderline io ne ho alcuni più trivial però vi dico che è successo di recente cioè gli eredi di Toscanini hanno fatto una causa in questi anni perché attenzione forse non ho messo abbastanza focus su quel concetto lì che sono inalienabili e inestinguibili cioè vuol dire che dopo la morte dell'autore non è che passano 70 anni passano i secoli dei secoli dei secoli e gli eredi se riescono a dimostrare effettivamente il legame ereditario possono continuare a esercitare questo diritto quindi non scadono mai e soprattutto sono inalienabili vuol dire che l'autore non se ne può liberare cioè l'autore non può delegare la gestione di questi diritti ad un altro soggetto non può rinunciarvi non troverete mai in un contratto di edizione una clausola che vi chiede di cedere i vostri diritti morali se la trovate perché a volte succede vuol dire che quel contratto lì l'ha fatto uno che non capisce niente di diritto autore esatto lui dice gli eredi di uno scrittore facciamo un esempio generico che cedono i diritti per fare il film per fare la riduzione teatrale per fare la traduzione in una lingua che fino a quel momento non era stata tradotta loro cedono il diritto di farne modifiche sì ma loro stanno cedendo quel diritto lì articolo 18 diritto di tradurre l'opera di fare modifiche dell'opera stanno agendo sull'ambito del diritto di utilizzazione economica ma loro possono sempre comunque esercitare un diritto morale quando questa attività di modifica sia in violazione della reputazione del loro parente del loro avo ok quindi anche quando io ho ceduto il diritto di fare modifiche posso sempre dire eh no ragazzi però quella roba lì no anche se io ti ho ceduto un diritto il più ampio possibile però quella roba lì eccede perché c'è una questione morale quindi capite che sono dei diritti che noi non ci leviamo mai dalle scatole noi giuristi perché ogni tanto qualcuno ogni tanto qualche situazione va a toccare l'aspetto morale e quindi qualcuno decide di esercitare quei diritti vabbè dai ve lo faccio io l'esempio perché c'è qualcun altro che vuole proporre allora un autore di brani musicali che cede ad una casa di produzione vari brani suoi per colonne sonore genericamente scopre che a un certo punto buona parte di questi suoi brani sono sotto film porno ok e lui dice no caspita io non ho la mia la mia reputazione d'autore anzi lui è un autore che scrive brani romantici d'ambiente così no questa cosa qua eccede anche se io ti ho ceduto tutto ma quella roba lì va a violare la mia reputazione d'autore oppure caso limite perché anche qua c'è da valutare se c'è un diritto morale sul software però un diritto morale è un sviluppatore che fa software lo rilascia con licenza open source quindi al pubblico libera modifica ma scopre che poi questo software che lui aveva realizzato per far funzionare meglio le stampanti viene utilizzato per da un'azienda di qualche paese strano per fare mine anti uomo e per farle scoppiare meglio ok questa cosa qua può andare a toccare un aspetto ripeto è un esempio di fantasia e è tirato per i capelli perché difficilmente si può esercitare un diritto morale in questo caso però per farvi capire come la reputazione dell'autore però torniamo sul musicale ne facciamo uno che in realtà è successo brano musicale anche di musica classica utilizzato come inno di un partito nazista o razzista o oltre anzista di qualsiasi tipo allora lì no caspita gli eredi di Giuseppe Verdi di Puccini dico no non è che tu mi prendi il pezzo della Ida e adesso gli cambi tre parole diventa l'inno di quelli rasati che vanno nelle piazze a prendere bastonati i loro avversari politici quindi lì puoi agire su un diritto ed è successo di recente una diffida esercitando questo tipo di diritto niente quello che vi dicevo prima articolo 21 diritto di rivelarsi di far riconoscere in giudizio la tua qualità di autore anche nel caso di opera anonima o pseudonima ve l'avevo già citato prima come esempio e poi c'è questo ultimo strano diritto diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali cioè l'autore si può pentire non tanto della questione economica cioè del fatto di aver distribuito un'opera ma proprio di quello che lui ha scritto e che ha detto nell'opera perché magari questa cosa va a toccare questioni morali molto delicate cioè autore che scrive una biografia di suo padre descrivendolo come un personaggio che l'ha ispirato e scopre che non è suo padre scopre quando il libro è già uscito questa cosa qua può essere oppure che suo padre non era questa questa persona così anzi viene condannato come come boss mafioso ok questa cosa lo può danneggiare anche lui come autore allora lui si può pentire e dire no io chiedo il ritiro dell'opera dal commercio piccolo problema che questa norma prevede anche che vengano indennizzati tutti i soggetti che sono estranei e che sono incolpevoli cioè le case editrici distributori che hanno speso dei soldi per diffondere il libro non è che possono essere loro danneggiate da questa sua scelta quindi lui deve farsi carico di indennizzare tutti questi soggetti quindi questo è il motivo per cui in realtà questo diritto viene esercitato abbastanza raramente perché costa costa caro e quindi nella maggior parte dei casi si spera che l'opera accada nell'oblio e la gente se ne dimentichi ok chiuso il discorso dei diritti morali in realtà abbiamo già perso troppo tempo rispetto a quello che mi aspettavo perché poi essendo essi inalienabili e inestinguibili difficilmente poi li possiamo trovare nella nostra vita di gestori di diritti d'autore né io come avvocato né voi come riutilizzatori perché tanto ripeto l'unica cosa che dovete ricordarvi è che li potete sempre esercitare anche quando avete ceduto altri diritti e che se trovate qualcuno che vi chiede di cederli è un sintomo del fatto che Colino non ha capito nulla di diritto d'autore prego gli eredi esatto infatti prima avevo fatto questa postilla se uno riesce a dimostrare la sua qualità di erede e questo è un problema che attiene non tanto al diritto d'autore ma al diritto delle successioni c'è tutto un capitolo e a un certo punto si perde ma in realtà ripeto sono stati esercitati quelli per Toscanini non tanto tempo fa e allora ci sono delle regole del diritto delle successioni che sono le stesse regole che si entrano in gioco quando uno deve dividersi una casa o dividersi un terreno ereditato si utilizzano quelle e nello stesso tempo gli eredi cioè con quelle regole possono esercitare questo tipo di diritti perché sono diritti che poi hanno a che fare appunto con un aspetto vabbè il diritto d'autore in questo caso è morale non economico però funziona allo stesso modo di diritto privato esatto sì in quel caso lì sì ok adesso vi invito a dimenticarvi dei diritti morali di non perderci troppo tempo e di concentrarci su questa parte qua perché? perché questa è esattamente la parte su cui effettivamente si svolge la vita del diritto d'autore allora in realtà ci sono anche quei due là che vi ripeto non ce la facciamo a trattare perché l'eco compenso è tutto dei suoi meccanismi particolari e il diritto sui generis è quel diritto sulle banche dati non creative che vi citavo prima e richiede solo lui un'ora seria di lezione perché è molto molto complesso però mi posso dare c'è una mia video lezione che ritengo abbastanza ben fatta sul mio blog di quasi un'ora che spiega benissimo come funziona il diritto sui generis cioè specificamente dedicato a quello quindi se uno è proprio interessato può andare lì ad approfondire però zoomiamo questa è lo zoom di quel riquadro rosso e ci fermiamo per un po' su queste due grandi colonne ovvero bene siamo in tempo diritti di utilizzazione economica e diritti connessi i diritti di utilizzazione economica a questa colonna sono quelli che poi volgarmente chiamiamo i diritti d'autore quelli che gli americani chiamerebbero copyright ok cos'è che è comparso lì in basso però se mi rimane lì va bene non disturba tanto allora ho paura che mi apra qualcosa se ci clicco sopra io sono veramente ho perso l'abitudine di windows da un po' di tempo adesso lancio un aggiornamento tipo di 5 ore un aggiornamento che non puoi ovviamente schippare perché se no scoppia tutto ok perfetto grazie allora questi sono i famosi quelli che poi noi comunemente al gergo giornalistico di tutti i giorni chiamiamo i diritti d'autore perché sono quelli che poi l'autore decide di cedere e gestire attraverso i contratti licenze abbiamo tutta la seconda parte della lezione di oggi del corso di oggi sulle licenze open quelli saranno oggetto di licenziamento di rilascio con licenza ok allora questi sono vedete diritti esclusivi di utilizzazione economica quindi l'obiettivo di questi diritti è quello di dare una remunerazione all'autore quello che abbiamo detto un po' prima il fatto che l'autore grazie a questi diritti grazie al fatto che lui ha un'esclusiva sull'utilizzo sul sfruttamento di questi diritti possa remunerarsi perché esclusivi perché l'autore grazie a questi diritti può escludere altri dal fare lo sfruttamento di queste dallo sfruttare questi diritti dallo sfruttare la sua opera ok prego ah no ho sentito uno scuso ok allora questi sono alienabili quindi assolutamente al contrario di quelli morali sono alienabili nascono per essere alienabili e guai se non lo fosse non assolverebbero il loro compito l'autore li deve vendere li deve cedere per remunerarsi scomponibili cioè l'autore può decidere di tagliarli a fette sempre più piccole secondo il suo gusto e il suo piacere cioè qua ne abbiamo 10-12 ma lui può farne sotto categorie e sotto divisioni ad esempio il diritto di tradurre l'articolo 18 l'autore può fare 10 contratti diversi a seconda delle lingue per la Spagna per lo spagnolo faccio il contratto di edizione con una casa argentina una casa editrice argentina per la Germania per il tedesco faccio un contratto di edizione con la casa tedesca ho tagliato a fette a sua volta la casa editrice tedesca che ha acquisito la traduzione può fare una riduzione teatrale può farne una versione film una versione per bambini a fumetti se ha acquisito questi diritti io ho tagliato ulteriormente quella fetta in sottofette più piccole quindi questo vuol dire scomponibili e indipendenti l'uno dall'altro esattamente è sempre un corollario di questo concetto che vi ho spiegato cioè il fatto che io possa decidere di fare contratti separare i vari rapporti giuridici a seconda della mia scelta ovvio che poi posso dirti aggiungere solo una cosa perché è importante ai fini open access ai fini della pubblicazione questo concetto dei diritti indipendenti fra di loro veramente va detto ai vostri docenti perché io lo ricordo sempre nei miei seminari cioè quando gli editori vi chiedono l'accessione in toto di tutti i diritti ma perché continuiamo a dire stanno perché lo fanno allora stanno facendo un abuso ok quindi i diritti sono indipendenti voi potreste cedere come autori il diritto di pubblicare l'opera e tenervi il diritto di riprodurre questo dice la legge stavo arrivando proprio a fare questo esempio questo dice la legge la prassi contrattuale poi come si è evoluta si è evoluta verso il tutti i diritti riservati cioè tutto in blocco cioè l'editore se voi siete gli ultimi sconosciuti arrivati nel mondo della creatività dell'editoria tendenzialmente vi butterà lì una bozza di contratto con dentro una bella clausola ampia in cui cita tutte queste cose e vi dice tu cedimi a me tutto vai tranquillo ci penso io e per quei dieci anni di durata del contratto lui diventa signore incontrastato alla gestione di questi diritti anche a mio discapito nel senso che io non è che sono l'autore allora ma io decido faccio io le fotocopie 50 fotocopie in aula per i miei studenti no l'editore dice no caspita c'è il libro i ragazzi se lo vanno a comprare in librerie perché se no tu fai un'attività che danneggia la mia attività di editore e viola il contratto perché perché tu hai ceduto in esclusiva a lui il diritto ok quindi occhio è ovvio che se siamo gli ultimi arrivati il gioco è quello l'editore ti dice ciccio se vuoi è così se no la porta è quella lì non ho tanti da pubblicare non è che posso perdere tempo con te perché tu vuoi tenerti alcuni diritti e lì entra nel gioco della contrattazione se avete voglia di litigare non avete voglia di litigare io sono di quelli che vogliono litigare infatti ho fatto causa a uno trovate sul mio blog una causa con Franco Angeli lo posso dire perché è uscita la sentenza in cui semplicemente non avevano capito io avevo chiesto di applicare una licenza creative commons a un libro e niente mi hanno tenuto in ballo per quasi per più di un anno facendomi perdere un sacco di tempo anche soldi per poi dirmi no guardi l'ufficio diritti ha verificato e questa licenza da noi non si può fare quindi se vuole le diamo il nostro contratto standard io allora sono andato a riprendermi tutte le email in cui loro mi avevano detto sì sì non si preoccupi stia tranquillo la licenza la mettiamo vabbè però questo è quello che succede se avete voglia di entrare in discussione sappiate che avete tutti i diritti per farlo poi se voi avete questa offerta molto interessante a parte un editore e vi dice ragazzo se vuoi queste sono le regole le facciamo noi perché noi siamo grossi e tu sei piccolo eh questo dipende da voi è ovvio che se sono Umberto Eco posso andare da Feltrinelli Mondadori e in Audi e dirgli ciccio vuoi il libro di Umberto Eco però ti prendi solo i diritti che voglio di darti e probabilmente loro accettano dipende dalla cosiddetto potere contrattuale e il suo libro purtroppo la legge non può fare nulla lì è diritto privato è capacità di trattative indipendente durano fino a 70 anni della morte dell'ultimo ora abbiamo già detto non perdiamoci altro tempo leggiamo quali sono i diritti questo è diciamo lo schema della legge italiana su questo forse andando a prendere leggi di altri stati europei magari sono divisi in modo un po' diverso ma più o meno sono gli stessi alcuni sono da noi vedete l'articolo 18 non era gruppa 3 poi abbiamo aggiunto un 18 bis perché il legislatore si è accorto che mancava quello l'ha aggiunto successivamente però più o meno sono sempre quelli il diritto di pubblicare l'opera di riprodurre l'opera cioè di farne copie questo è il copyright nel senso più stretto del termine della parola il diritto di trascrivere l'opera cioè che cos'è il diritto di trascrivere l'opera? allora qualcuno di voi sta registrando con un registratore ditelo anche senza se lo state facendo vedi lui lo stava facendo abusivamente se lui va a casa e si sbobina tutta la mia conferenza quella roba lì è un'opera letteraria perché in realtà io sto parlando a braccio però ho io i diritti su quello che sto dicendo questa è a tutti gli effetti un'opera letteraria diventa un saggio se uno lo sbobina e quindi in teoria io potrei esercitare l'articolo 14 e inibire questo utilizzo alla trascrizione non il fatto che lui la distribuisca perché quello sarebbe pubblicare è proprio il fatto che lui faccia la trascrizione quello è il diritto di trascrivere il diritto di eseguire rappresentare o recitare in pubblico l'opera è il diritto che paghiamo se qualcuno di voi ha mai organizzato un matrimonio una festa e ha pagato la SIAE quello è il diritto quando qualcuno va a suonare in un locale pubblico è quello lì eseguire rappresentare e recitare in pubblico l'opera anche se arriva il DJ a mettere dischi è stessa cosa perché è un'esecuzione pubblica di musica il diritto di comunicare al pubblico l'opera comunicarla anche attraverso la rete ad esempio l'articolo 16 è quello che riguarda quasi tutti gli utilizzi su internet il diritto di distribuire l'opera cioè una volta che abbiamo fatto copie articolo 12 scusate articolo 13 le copie come sapete se facciamo nulla se rimangono in garage o nel magazzino dell'editore vanno distribuite quello lì è un diritto separato a sé che io posso decidere di cedere ad una casa di distribuzione piuttosto che un'altra nel cinema ci sono società che fanno la distribuzione non sono produttrici non hanno diritti se non quello lì ok cioè non hanno diritti sull'opera sulla creazione dell'opera ma solo su quello di distribuirla il diritto di tradurre l'opera l'abbiamo già usato prima come esempio cioè tradurre in un'altra lingua è un'attività creativa cioè provate a leggere il libro tradotto da un cattivo traduttore io l'ho letto uno di Lessig Lessig è il nostro guru del diritto d'autore in cui la parola work che vuol dire opera era tradotta a lavoro sempre quindi vi lascio immaginare un libro sul diritto d'autore in cui la parola work viene tradotta a lavoro che cosa viene fuori il diritto di fare modifiche e elaborazioni dell'opera quello che abbiamo fatto anche lì prima come esempio infatti io posso cambiare destinazione all'opera ad esempio un brano musicale che viene utilizzato come sottofondo di un cortometraggio il fatto che io già gli abbia cambiato destinazione abbia scelto di tagliarne solo un pezzo quella roba lì è già un'attività che implica una scelta creativa quindi io devo l'autore il titolare originale dei diritti deve aver ceduto questo diritto ok oppure il diritto di farne fare la versione teatrale di un romanzo fare la versione cinematografica di un'opera teatrale e via dicendo il remix di un brano musicale ok e poi al contrario il diritto di pubblicare l'opera in raccolta cioè anche il fatto di mettere insieme la mia opera insieme ad altre opere io posso decidere di inibirlo o meno di farmi di chiedere di farmi richiedere il permesso per quell'attività cioè fare un'ontologia fare una raccolta di saggi e poi c'è quello che dicevo prima l'articolo 18 bis il diritto di noleggiare l'opera di autorizzare il noleggio il prestito ok i titolari dei diritti cioè un conto sono le biblioteche pubbliche che hanno una loro eccezione ma se io metto in piedi una biblioteca privata pago la SIAE nel senso che devo chiedere ai titolari dei diritti tramite la SIAE il diritto di noleggiare di dare in prestito le loro opere ok perché quello è un diritto che sta a sé che tiene in piedi tutto il mercato delle videoteche che adesso sta in realtà morendo ma ha tenuto in piedi il mercato delle videoteche negli anni 80-90 infine c'è questo diritto che si chiama diritto è strano perché è un diritto è un non copyright io lo chiamo cioè perché è un diritto d'autore in cui non c'è la copia diritto di seguito sulle vendite di opere d'arte o di manoscritti cioè sono quelle opere che non hanno copie che sono singola singolo esemplare cioè se io di lavoro faccio lo scultore ok non ho un cioè ho un diritto d'autore perché sono autore a uno spunto creativo e l'ho estrinsecato però caspita non ho un copyright perché non vengono fatte copie della mia scultura e quindi com'è che mi remunero com'è che si remunera uno che di lavoro fa lo scultore risposta vendendo l'opera però l'opera non viene venduta una volta sola viene venduta otto volte tutte le volte e aumenta valore nella maggior parte dei casi se l'autore è valido e quindi l'autore ogni volta che viene venduta questa parte della venduta ha 10.000 euro perché secondo lui era il prezzo poi questa viene messa in piazza da una parte viene apprezzata viene venduta a 50.000 euro al comune lui su quei 40.000 di differenza non ha nulla allora si è pensato che anche autori che fanno questo tipo che hanno questo tipo di attività avessero diritto a una remunerazione quindi loro hanno un diritto ad una percentuale sui passaggi delle varie i vari passaggi nelle vendite dell'opera ok eh sì bella domanda in teoria in teoria dovrebbero essere tracciate cioè le opere le opere d'arte sono tracciate sono iscritte in regista anche perché per un discorso anche fiscale tant'è che mi spiegava un mio amico tributarista che adesso è diventato uno dei pochi campi in cui si riesce a fare ancora tanta evasione perché è difficile dare il valore cioè mentre su un monolocale posso vendere ad un prezzo inferiore per farci del nero ma non tanto inferiore perché l'agenzia delle entrate dice no caro quella roba lì in centro a Milano al terzo piano ha un minimo valore sull'opera d'arte è molto difficile però in teoria dovrebbe essere tenuta traccia ammetto che la mia ignoranza su questo tema non conosco bene però c'è una tracciatura anche a scopi fiscali prego non saprei adesso andare così nel dettaglio però si trova in rete se cercate è diritto di seguito sulle vendite di opere d'arte però l'ho citato solamente perché uno c'è nella legge non potevo visto che questo schema voleva essere completo non potevo non citarlo ma non credo che nel vostro caso visto che dobbiamo parlare di biblioteche di attività digitali sia così fondamentale ok c'è tenete presente che esiste se qualcuno magari è interessante se qualcuno vuol dare una tesi di laurea per approfondire il tema se qualcuno è a storia dell'arte insegna storia dell'arte o a lettere allora abbiamo esaurito una prima colonna che c'è molto chiara però io ve l'ho già citato prima i diritti d'autore si esauriscono qua con i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica ma nel processo creativo di un'opera non esistono solo gli autori l'abbiamo già detto prima cioè dei soggetti esistono anche dei soggetti che fanno un'attività fondamentale che permette all'opera di andare sul mercato di essere fruita esempio nell'ambito musicale il produttore discografico il produttore fonografico dice la legge cioè chi è il produttore è colui che si fa carico del fissare su un master dei suoni cioè prende si va investe affitta uno studio di registrazione mette giù gli strumenti chiama i musicisti e gli fa suonare i loro brani oppure fa suonare i brani di altri quindi lui deve anche pagare gli esecutori che vanno semplicemente come esecutori lui non ha nessun diritto lui sì invece ha un diritto connesso si dice sul master cioè quindi tutte le volte che viene utilizzata quella singola registrazione lui dice no quella roba lì c'è un mio diritto su quella roba lì c'è un mio diritto ok articolo 72 la stessa cosa per il produttore delle opere cinematografiche che è spesso un ruolo fondamentale perché un film senza un produttore forte dietro difficilmente riesce perché c'è bisogno di un budget molto forte contatti autorizzazioni presso i comuni le varie zone in cui vai a fare le riprese quella roba lì chi è che se ne occupa il produttore ma non è tonno che poi rimane senza diritti anzi diventa probabilmente il principale titolare dei diritti di un'opera cinematografica perché lui poi esercita se andiamo a leggere la norma anche i diritti degli autori dell'opera cinematografica quindi su di lui transiscono tutti i diritti anche quelli d'autore c'è anche questi perché se no diventeremmo matti ogni volta dovremmo andare a chiedere a tutte le persone che hanno lavorato avete presente quante gente lavora in un film avete mai letto i titoli io ho un amico che lavora che fa gli effetti speciali nel cinema mi ha detto guarda sai che c'è il mio nome alla fine di Iron Man e prima che l'ho trovato ho spasato 20 minuti di titoli ok soprattutto nei film di fantascienza va bene a proposito chi sono gli autori di un film è una domanda che solitamente provoca curiosità vi dico che sono quattro soggetti cioè in un'opera cinematografica chi è titolare dei diritti d'autore quindi lasciate stare il produttore il produttore cinematografico proprio titolare dei diritti d'autore chi sono su un film sceneggiatore regista aspetta direttore della fotografia no viene considerato una figura tecnica che lavora sotto le direttive del regista direttore artistico è il regista è come la legge italiana chiama il regista montatore no idem con il direttore della fotografia è una figura percepita come tecnica compositore delle musiche originali bravo cioè se sono originali ovviamente se no si chiama curatore delle musiche cioè se uno prende dei brani già esistenti li mette sotto è una figura importante ma non è creativo non è autore quindi non ha un diritto d'autore quindi il morricone della situazione che invece scrive la colonna sonora nel senso tecnico del termine diventa titolare di diritto d'autore però ne manca uno e lo perdete sempre no attenzione adesso arriviamo sugli attori ho detto titolare di diritti d'autore cioè di gente che ha chi è che ha scritto un film oh il soggetto ok grazie perché cascate tutti si casca spesso nel soggetto di sceneggiatura come se fosse la stessa cosa in realtà no cioè i film di Harry Potter non sono sono stati sceneggiati da qualcun altro ma derivano dai romanzi preesistenti ok quindi la Rowling ha comunque un diritto d'autore anche sui film perché perché ripercorrono i romanzi e il personaggio come abbiamo detto prima quindi lei ha un diritto d'autore sui film punto non c'è dubbio ma c'è il diritto d'autore anche di colui che si è fatto il lavoro che è un lavoro creativo importante di sceneggiarlo cioè di renderlo fruibile per la ripresa e poi c'è il regista e poi c'è l'autore delle musiche ok l'abbiamo detti so che solitamente genera una curiosità allora andiamo avanti di quei diritti connessi qualcuno prima parlando di film ha detto gli attori eh no gli attori non sono autori sono esecutori interpreti cioè eseguono l'opera scritta da un altro poi oddio può capitare che uno sia autore cioè ci sono dei monologhisti bravissimi sono autori registi e interpreti dei loro pezzi teatrali ok però vedete articolo 80 parla del diritto degli artisti interpreti esecutori cioè tutti quei soggetti che di lavoro eseguono opere scritte da altri e sono gli attori ma anche i musicisti gli interpreti Pavarotti era autore no eppure se voi volete Pavarotti se volete il disco l'Aida cantata da Pavarotti costa di più di quella cantata registrata dalla scuola dal conservatorio di Milano ok dove magari è bravissimo l'interprete ma non ha il nome di richiamo no no ne abbiamo saltato uno che è fondamentale i diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva cioè se Mediaset va a fare le riprese al concerto di Pavarotti ha un diritto suo perché perché si è fatta il lavoro di posizionare le telecamere in un certo modo di fare una regia televisiva ok quindi quello è un diritto separato rispetto a quello di Pavarotti che è interprete e rispetto a quello di in quel caso Verdi Rossini che è scaduto dal punto di vista del diritto economico perché sono passati più di tot anni vedete che abbiamo già visto un pochettino più come è dettagliato il diciamo il panorama allora poi cosa manca vabbè questi possono interessarvi diritti relativi ad opere pubblicate per la prima volta successivamente le istituzioni dei diritti patrimoniali d'autore cioè manoscritti che sono stati ritrovati anni dopo e in realtà sono già passati i 70 anni della morte dell'autore quindi lui non può più vantare un diritto d'autore allora la legge comunque prevede in quel caso per incentivare la diffusione dell'opera un diritto connesso che non può essere d'autore perché appunto il diritto d'autore è dell'autore e quindi è scaduto quindi in quel caso ce l'hanno probabilmente i parenti l'opera diritti relativi ad edizione critico-scientifiche di opere di pubblico dominio cioè se io faccio l'ennesima versione dei promessi sposi commentata da quella roba lì non genera un diritto d'autore a Manzoni nuovo il diritto d'autore di Manzoni è scaduto punto i suoi eredi non possono più romperci le scatole sul pagamento dei diritti al massimo possono esercitare un diritto morale se proprio vogliono e si dimostrano che il mio uso è squalificante per la figura di Manzoni ma chi si preoccupa di fare un'edizione critica scientifica ha un diritto connesso previsto l'articolo 85 quater diritti relativi a bozzette sceneteatrali idem diritti relativi alle fotografie oh questo diventa oggetto di lasciamolo un attimo da parte relativi alle fotografie diritti relativi alla corrispondenza epistolare anche lì in tutti i casi un po' particolari che però in alcuni casi entrano in gioco ho visto io sono ho vissuto al lago di Garda lì al vittoriale insomma ogni tanto saltano fuori ancora scritti di dannunzio lettere che hanno un valore economico non da poco perché pubblicarli visto che non si sono mai visti e c'era la corrispondenza epistolare tra lui e la duse ok quello è un diritto un po' suo particolare diritti relativi al ritratto ok ci sono dei soggetti che di lavoro vendono questo diritto qua articolo 96 diritti relativi al ritratto chi sono questi soggetti com'è no il fotografo è quello che fa la foto il diritto relativo al ritratto cioè della persona ritratta le modelle i modelli i testimonial cioè il Beckham che fa la foto con il nuovo profumo o con il nuovo paio di scarpe da calcio cioè loro in quel momento non stanno interpretando un'opera dell'ingegno stanno vendendo la loro bella faccia cioè la loro immagine il loro ritratto ok anche se il ritratto è fatto a pennello è un diritto di ritratto cioè il fatto che la tua immagine quelli che poi noi volgarmente chiamiamo diritti d'immagine quelli che c'erano nella famosa liberatoria io ho firmato una liberatoria per venire qua e c'erano tanti riferimenti a questo peccato che in una ripresa non ci sono solo diritti d'immagine quello valeva se fossero state solamente fotografie ma nella ripresa ci sono anche le mie parole quindi c'è un discorso di vero diritto d'autore vabbè diritti relativi ai progetti di lavoro di ingegneria ovviamente il lavoro di ingegneria non è di architettura quindi non c'è una scelta creativa cioè se devo fare un ponte e le scelte sono necessitate dal fatto che il fiume è largo così ha un certo tipo di terreno l'altezza di un altro tipo e il ponte viene semplicemente una colata di cemento con dei cavi d'acciaio in quel caso più che di diritto d'autore perché non c'è un disegno un design creativo si parla di un lavoro di ingegneria e quindi è un diritto connesso no abbiamo saltato però uno di quelli più importanti di questi qua il diritto relativo alle fotografie allora io vi faccio una domanda provocatoria ma non abbiamo mica visto nell'articolo 1 e 2 che le fotografie sono una forma di creatività in senso pieno la chiama opera dell'ingegno no? la legge sul diritto d'autore l'articolo 1 e 2 le opere fatte col procedimento fotografico ma io vi dico che queste non sono le opere fotografiche sono le fotografie c'è una differenza secondo voi? sì? no 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 quello è il ritratto sempre no no bravo ecco lui dice la signora dice il tipo di foto lui aggiunge è l'intento con cui sono state scattate ok? effettivamente forse artistico è troppo forte creativo mi basta cioè la legge italiana ha questa differenza che abbiamo solo noi e pochi altri che è un po' sembra una complicazione in più però ha senso se adesso ve la spiego cioè se l'opera ha uno spirito creativo in senso pieno cioè la fotografia fatta per una mostra per un concorso fotografico quella è 70 anni dalla morte dell'autore punto non c'è dubbio se l'opera se la foto è scattata con un fine di documentazione la foto del la foto fatta al politico che sta facendo un comizio in piazza ok? il fotoreporter in quel caso non aveva uno scopo creativo ha uno scopo di documentare che il tizio stava parlando ok? che ci sia il tramonto in un certo modo che sia la luce quelle sono secondarie rispetto al fine di documentazione quindi in quel caso arrivo la legge prevede che quel tipo di creazione non sia sufficientemente creativa per essere considerata opera dell'ingegno allora gli dice gli concede solamente 20 anni dallo scatto che sono ben più ridotti rispetto ai 70 anni dalla morte dell'autore chiaro? quindi la maggior parte dei casi le foto di documentazione fotogiornalistiche le possiamo considerare ai fini di opera fotografica attenzione però che questa è una differenza che abbiamo solo noi nella nostra legge italiana né pochi altri quindi quando usciamo dai nostri confini può essere che qualcuno ci dica no ciccio sono comunque 70 anni dalla morte dell'autore quindi tenetela un po' con le pinze c'era una domanda lì esatto le foto fatte a opere d'arte sì in realtà lì sì perché lì l'opera la creatività è di Michelangelo più che di più che di chi ha scattato la foto anzi è vero che ci vuole una competenza tecnica non da poco per fare una foto soprattutto ai quadri bisogna saper mettere le luci in un certo modo perché se no il quadro non fa vedere tutti i suoi particolari ma in realtà meno creativa è meglio è nel senso che pensate a un altro esempio le foto aeree le foto aeree che vengono utilizzate per fare le mappe poi dei centri dei comuni idem lì meno creative sono meglio è perché io devo documentare che Torino ha questo tipo di strade non gli frega niente a nessuno che tu mi hai messo le luci in modo creativo anzi potrebbero disturbare ok quindi vedete che il discorso dell'intento in realtà non è così peregrino certo che aggiunge una criticità in più perché noi ogni volta dobbiamo sempre metterci lì da giuristi o anche voi ahimè da non giuristi e dire ma questo è creativo o no ma l'intento del fotografo era creativo o no c'è la famosa foto dei bambini che scappano dai bombardamenti in Vietnam foto famosissima come era stata scattata con un intento di documentazione o con un intento creativo di documentazione esatto poi ha avuto un impatto comunicativo così forte per cui difficilmente adesso ne potremmo contestare a questo autore un diritto di 70 a parte che è un autore è un fotografo americano se non ricordo male quindi non si pone il problema loro non hanno questa distinzione se fosse stato italiano però saremmo borderline ok la foto di Olivero Toscani fatta lui è a un convegno fa una foto di un certo tipo in cui riesce a beccare un'espressione molto corrucciata del politico vai a dire a Toscani che non hai un diritto di 70 anni ok diciamo borderline che ore sono così li faccio ridere un po' e vi sveglio eh sì infatti adesso esco dalle slide vi faccio vedere visto che il titolo della lezione è anche immagini e testi online sulle fotografie questa cosa qua non ve la posso non far vedere allora se io vado su Google e metto monkey selfie Google mi dà questa roba qua no non selfie io voglio Google immagini però no andiamo proprio su google.com allora monkey che sta per scimmia allora eh vedo che già ridete lo sapevo la foto che mi interessa è questa qua esatto visualizza immagine cosa succede che c'è un fotografo che di lavoro fa documentari foto documentari e foto di documentazione naturalistica cioè va nelle foreste nei parchi fa le foto piazza piazza le macchine fotografiche il caso vuole che una scimmia si incuriosisca particolarmente la macchina fotografica vada lì tocchi il bottone sbagliato e si faccia il selfie che è questo qua cioè quello è esattamente un po' prima e questo è il risultato della foto succede che questo fotografo per segnalare la diciamo la curiosità di questa foto di questo evento dice sapete che questo è il primo selfie di una scimmia della storia bene lui si è fatto un autogol dicendo sta cosa perché la community di wikipedia prende la foto la mette su wikipedia su wikimedia commons dicendo opera di pubblico dominio ok foto scattata cinque mesi fa non so quindi nuovissima lui vivo e vegeto wikimedia foundation la prende la mette sui suoi server e dice la dichiara come opera il pubblico dominio questo impazzisce dice no adesso vi faccio causa faccio chi faccio là tutti cominciano a spiegargli la questione guarda che se tu te ne stavi zitto forse eh no però se stava zitto ovviamente adesso nessuno avrebbe parlato di lui nel senso adesso lui è diventato famoso grazie anche a questo questo evento questa casualità è il fatto che adesso qualcuno vuole fare causa ma non è lui no e chi è che fa causa il nome per conto della scimmia secondo voi la PETA l'associazione dei diritti degli animali come portatrice di interessi che è una roba voglio proprio vedere cosa di fronte a un giudice americano è stata è discursa in questi giorni si sta parlando di questa cosa che loro dicono no vogliamo noi il copyright su quella foto perché essendo lei la scimmia un essere vivente di cui noi ci occupiamo di cui noi facciamo anche un'attività di tutela che secondo me è folle perché appunto non c'è non sono titolari di diritti se non di diritti di un certo tipo che sono specificamente quelli no esatto cioè loro lì lo stanno facendo il nome per conto suo senza una delega scritta effettivamente la delega l'avvocato non l'ha firmata vabbè comunque questo è proprio capire come funziona ok quindi questa viene dichiarata come opera di pubblico dominio eppure si sta discutendo sul fatto di chi avesse diritti o meno e ripeto lì non siamo tanto sul discorso fotografia creativa di documentazione perché siamo fuori dal contesto italiano e quindi il fotografo non gli interessa gli interessa poter dire caspita lì è copyright mio che poi duri 20 o 70 anni ne discutiamo però secondo lui ovviamente adesso si è accorto che è un peccato non poter utilizzare questo copyright contro l'ell era vero io direi che possiamo ritenerci soddisfatti no ecco facciamo una cosa che non vi ho detto le durate di questi diritti perché loro hanno delle durate a sé l'abbiamo già detto un po' prima ma non ve lo segnalate tipo il diritto del produttore fonografico fino a l'anno scorso era di 50 anni dall'incisione del master qui non c'entra la morte di qualcuno sono diritti connessi quindi non hanno a che fare con la sfera creativa partono dall'atto dell'incisione o della registrazione della fissazione genericamente poi grazie a una riforma a causa di una riforma proposta in un ambito europeo abbiamo portato anche la durata di questi a 70 anni e sono dei diritti che si sovrappongono a quelli d'autora attenzione non è che vanno insieme cioè come l'esempio che facevo prima la musica classica è già scaduta dal punto di vista del diritto d'autore eppure non è che adesso voi potete prendere un brano una registrazione della Callas o di Bavarotti del 95 e metterla sotto i vostri filmati per tanto ah tanto è pubblico dominio no è pubblico dominio dal punto di vista del diritto d'autore ma gli interpreti e il produttore discografico che diritti hanno questi ok quindi non cadete nell'equivoco che basta usare la musica classica perché così youtube non ci dice nulla perché ogni tanto tolgono anche i filmati con sotto la musica classica perché? perché la musica classica qualcuno l'ha suonata o l'ha registrata diverso è se io a casa ho il vinile della Callas quello di mio zio lasciatomi magari del 58 le registrazioni più importanti della Callas sono tra quegli anni di 56 58 e 60 qualcosa no e quindi cominciavano a scadere effettivamente perché prima erano 50 anni fate il conto nel 2010 scadevano circa ok quindi alcuni sono scaduti effettivamente ma dobbiamo andare a prendere il suono da quel vinile perché se io vado a prendere il remaster che mi viene venduto all'autogrill è il copyright che vedete sotto è un copyright 2015 o 2014 perché l'hanno fatto l'anno scorso quindi il gioco dei diritti connessi è anche quello cioè ridare vita ridare vita a cose che ormai sono stanno cadendo un po' nell'oblio ridare una maggiore tutela anche nel tempo ok quindi ogni tanto escono questi remaster dei Led Zeppelin dei Pink Floyd che dice ma ce n'era bisogno dei Queen non stanno esagerando io sono un vecchio fan dei Queen ma ancora un po' che fanno collection e raccolte perché? perché fare la raccolta già il fatto di averli messi insieme crea un diritto e già il fatto di averli rimasterizzati crea un diritto e quindi tu stai continuando ad allungare la possibilità di remunerarti su quel prodotto c'era la domanda là prego no se sono scaduti sono scaduti però sono riusciti ad allungare un bel po' di cose nel senso che stavano scadendo anche i Beatles dal punto di vista del diritto connesso anni 60 e prima con la paura che Elvis i Beatles Aretha Franklin c'è un sacco di roba che genera ancora una marea di soldi al pelo sono riusciti ad allungarli no se sono scadute sono scadute quindi quello dicevo quelli della Callas che sono arrivati prima del 2013-14 quando sono quando si è stata fatta sta riforma erano scaduti però quelle lì tutte quelle prodotte dopo erano ancora tutelate quindi adesso sottostanno al nuovo termine che è di 70 anni dalla registrazione quindi bisogna andare a verificare lo so che è difficile ma io come faccio a sapere bisogna andare a vedere la singola edizione quando è stata pubblicata e vedere se siamo riusciti a beccare quella finestra in cui è stato esatto quello sì per altri se stavano se erano al 49esimo anno e hanno fatto la legge allora adesso dobbiamo aspettare il 70esimo ok anche se il diritto d'autore è già scaduto ripeto stiamo parlando di musica classica se facciamo un esempio dei Beatles e di Elvis allora lì stavano scadendo i diritti connessi e i diritti d'autore in realtà vivono ancora per un sacco di anni ma per farvi capire che questi non sono i fratelli poveri dei diritti d'autore facciamo un esempio chi è che vabbè chi è che conosce Britney Spears non so cantante ok chi è che mi dice l'autore di un brano di Britney Spears ecco vedi chi è che chi mi dice l'autore di un brano di Britney Spears Puccini vedi no nel senso che eppure se tu vuoi Britney Spears al che canta al al Super Bowl o che canta a X Factor paghi un sacco di soldi anche se ti arriva con un brano scritto da un perfetto sconosciuto però lì cosa stai pagando la sua interpretazione il suo diritto di immagini cioè stai pagando i diritti connessi il diritto d'autore magari non te ne frega neanche nulla sta facendo una cover di una roba che non si filava a nessuno e sono riusciti a ridarle vita con questa versione ora MX non lo so ok quindi attenzione cioè non sono si chiamano connessi perché allora il loro nome completo sarebbe connessi all'esercizio del diritto d'autore perché danno per scontato che comunque sotto ci sia un diritto d'autore cioè Britney Spears canta qualcosa che qualcuno ha scritto che poi questo qualcuno sia nell'ublio e non se lo fili nessuno e ci sia stato pagato solamente cash per fare il brano un altro discorso ok però in molti casi questi non sono così pensate a un altro esempio lì c'è i diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva vi dico che su quello è uno dei pochi casi in cui c'è il diritto connesso ma non c'è il diritto d'autore sotto cioè non c'è sotto un'opera dell'ingegno infatti alcuni eronicamente dicono diritti sconnessi fatemi l'esempio vediamo se vi arriva cioè un caso i musei intendono dei diritti su sulle opere che possiedono i musei possiedono dei diritti sulle opere che possiedono e quindi l'immagine ha in qualche maniera una tutela bisogna vedere se li hanno acquisiti può essere è difficilissimo dare una risposta a priori no no attenzione la domanda però bisogna guardare a monte cioè bisogna vedere chi è titolare dei diritti può essere che il museo sia semplicemente depositario cioè esponga può essere che abbia acquisito i diritti di una collezione fotografica ad esempio ok stiamo parlando di fotografie mi sembra di aver capito ah no no allora la foto del quadro no allora no no allora è un'altra cosa io avevo capito diritti di non so collezioni di fotografie che depositate ah no i diritti della gioconda lì il gioco è un pochettino più perverso cioè il discorso qual è che non ha un diritto il louvre sulla gioconda in sé ma se io voglio fare le foto della gioconda chi è che mi dà le chiavi cioè chi è che pago io sono agenzia fotografica e voglio fare un set fotografico con la gioconda la gioconda ce l'hanno loro e quindi a chi è che devo chiedere il permesso a chi ha le chiavi della stanza in cui è chiusa la gioconda quindi non è un diritto non c'è un copyright non è un discorso di copyright è un discorso di accesso sostanzialmente al pezzo sono di chi ha scattato sì poi in realtà lì è perverso perché cosa succede l'ouvre dice ok vuoi fare le foto le chiavi ce le ho io allora se vuoi fare le foto dopo mi dai un codiritto tu vieni e facciamo un accordo e quindi tu agenzia oppure il louvre ha una società separata che è louvre pictures non so e con quello loro fanno il catalogo del museo ok quindi si è creato tutto un business ma il trigger che c'è sotto è quello che loro hanno le chiavi e dicono ok e torniamo all'esempio che stavo cercando di fare io quello del diritto di emissione radiofone in cui non c'è sotto un diritto d'autore che non è tanto diverso cioè eppure ci sono un sacco di soldi che si giocano su quel diritto lì fatemi l'esempio c'è un diritto di emissione radiofonica televisivo il calcio esatto la Champions League tutti gli anni a inizio stagione si litigano i diritti della Champions League e lì non c'è un diritto d'autore sotto cioè sono partite di calcio sono eventi sportivi quindi non c'è un'opera dell'ingegno sotto è diverso da trasmettere il concerto di Ligabue ok in cui c'è il diritto d'autore di Ligabue che scrive i brani e il diritto della band di Ligabue che li esegue ok lì ci sono solo eventi sportivi che per oggi hanno un sacco di soldi e chi è il titolare dei diritti cioè chi è originario titolare dei diritti cioè chi è che cede dell'esclusiva Mediaset a Rai o a Sky quando c'è l'asta dei diritti la? la Lega Calcio bravi o la UEFA nel caso la Lega Calcio la Lega Calcio è autrice dell'opera? no quindi che diritto ha la Lega Calcio? ha le chiavi dello stadio ok stesso discorso cioè tu vuoi mettere le telecamere ti apro io la porta se no non le metti questo è detto in modo molto volgarizzato però il gioco è quello lì quindi ok vuoi mettere le telecamere l'esclusiva ce l'ho io perché sono quello che ti fa mettere le telecamere mi paghi e diventiamo cotitolare dei diritti allora lì si innesca il gioco del diritto articolo 70 è solo quello c'è solo quel diritto lì poi va bene che nell'evento sportivo c'è il tizio che canta tra un tempo e l'altro la partita c'è la sigla c'è la banda quello è un altro discorso all'interno dell'evento sportivo ci sono anche interventi musicali creativi allora lì c'è un diritto d'autore va bene lasciamo perdere ma solo su quei pezzi lì sull'evento sportivo in sé no sono 11 persone contro altre 11 che tirano un calcio al pallone ok questo è il gioco cioè purtroppo questo è il business e lo stesso discorso simile lo si può fare col museo che dice vuoi fare le foto ma ce l'ho io il pezzo originale quindi come fai a farle ti apro io la porta e quanto mi dai per aprirti la porta ok un libro che ha diritti scaduti e che ha all'interno un'immagine della gioconda è un libro che si può tranquillamente pubblicare beh sì a quel punto lì si trasferisce sulla foto cioè sul titolare dei diritti della foto che però non è il museo dipende cioè a volte è il museo stesso perché ha anche un'attività di fotografia cioè quando incarichano loro il fotografo ma un libro per esempio un libro del 1800 che ha sicuramente che ha al suo interno una foto della gioconda lì si può andare tranquilli che anche il fotografo è morto quindi infatti io ogni tanto quando vedo era nata la discussione con un giornale un quotidiano nazionale importante che aveva messo online il suo archivio di tutti i vecchi i vecchi giornali scannerizzati anni venti è bellissimo interessantissimo non posso dire qual è e lì c'era un problema cioè c'era un discorso sulle foto nel senso lì era scaduto o no sì perché se le foto le consideriamo di documentazione e sono foto gli anni venti trenta i vent'anni sono scaduti senza dubbio non c'è pericolo però alcune erano molto creative allora chi è il fotografo andiamo a vedere se questo è morto da più di settant'anni in quel caso lì perché c'era un fotografo qui sono riproduzioni di semplici opere d'arte quindi il diritto lì è di Leonardo cioè il diritto su a gioconda è di Leonardo dei suoi eredi quindi ahimè credo si sia persa la trafila nessuno potrebbe esercitare diritti morali c'è un'esclusiva ripeto che è basata solo su questo gioco del io sono ce l'ho io e quindi vanto un'esclusiva che non è tanto sulla foto in sé perché la foto ripeto il diritto della foto è del fotografo ma se è una foto di mera documentazione dove lui deve semplicemente riprodurre il quadro anche lì difficilmente lui ha un diritto perché non c'è nessun tipo di creatività cioè il suo è come se fosse una scannerizzazione lo scan non è una fotografia quindi probabilmente non ha neanche un diritto connesso il fatto è che loro hanno questo gioco del mettere il cartello vietato fare le foto perché nella maggior parte dei casi siamo usciamo dall'ingenuità perché ci vietano di fare le foto perché il flash rovina i quadri sì allora se io ti tolgo il flash che problema c'è però è vietato lo stesso perché perché se tutti cominciassero a far foto loro perdono buona parte del controllo su queste riproduzioni effettivamente lo stanno perdendo perché ormai è impossibile vietare alla gente fare le foto abbiamo in tasca cellulare che fanno di tutto c'è una signora là dietro mi sembra se era legale o meno rifare le foto se sono legali quei cartelli in cui si vieta di fare foto dovremmo fare una precisazione in più ahimè non ne usciamo vivi c'è un problema anche di diritto dei beni culturali c'è una norma all'interno dei beni culturali articolo 107-108 che prevede in capo al ministero dei beni culturali la possibilità di dare autorizzazioni o meno sulla riproduzione di beni culturali quindi anche quando i diritti non siamo nell'ambito del copyright lì è diritto amministrativo e per me è materia abbastanza lontana non voglio avventurarmi però considerate che c'è anche questa barriera in più cioè la riproduzione di Pompei di certe cose non è un discorso di diritto d'autore il fatto che non ti danno l'autorizzazione dal punto di vista amministrativo per fare le fotografie e lì siamo su un altro piano ancora però il fatto che ci siano questi cartelli che vietano anche nelle chiese ad esempio mi sembra veramente pretestuoso inventarsi un diritto che non c'è cioè che diritto mi sta eh ma no ma rovini oppure durante la cerimonia non far scattare il flash perché il prete quello è un altro discorso siamo su un discorso di galateo e di buonsenso va bene ma qual è il danno che io faccio nel fare una foto il fatto che poi tu alla fine dell'anno hai l'accordo col fotografo e questo qua si arrabbia allora siamo su un altro piano ora dimmi qual è il diritto che stai facendo valere ok prego vorrei vedere se ho capito una cosa il geologo che fa una fotografia ha una frana è documentazione una foto quello non c'è dubbio sì sì come tutte le fotografie quello in genere sono stato la settimana scorsa a Roma a un convegno di archeologi in cui ponevano il problema delle documentazioni di scavo dove loro per legge sovrintendenza deve fare se qualcuno di voi in giardino fa degli scavi per fare la piscina e trova un capitello corinzio si ferma tutto deve comunicare ci sono tutte le procedure amministrative la sovrintendenza viene e deve documentare quello che succede quindi meno creativo di quello non c'è nel senso che non c'è un fotografo che va lì e dice ah io ho un intento artistico no assolutamente meno creative sono queste foto meglio è devono documentare lo scavo secondo non so ci saranno delle indicazioni ingegneristiche per cui devi far vedere il capitello in questa posizione in quest'altra posizione dall'alto stop quindi già quando ci sono delle indicazioni necessitate della legge la creatività si abbassa è come se io compilo un form che creatività c'è sto semplicemente inserendo dei dati in qualcosa che è prestabilito quindi lì non posso dire ah questo è un testo letterario l'ho scritto io no ho compilato un form un modello prego eh quello è oggi pomeriggio cioè nel senso io avrei una slide ancora prima di andare a pranzo se avete pazienza cinque minuti che è sul pubblico dominio cioè abbiamo parlato di queste durate abbiamo spiegato che spesso si riesce a trovare un trucchetto per allungare la durata che è quello dei diritti connessi cioè rimasterizzare reinterpretare ma per fortuna arriva un punto in cui questi diritti sono scaduti tutti ok dubito che qualcuno abbia dubbi sul fatto che possiamo riprodurre pezzi terzine di Dante senza dover chiedere nulla nessun tipo di parente o editore che ha un'esclusiva su Dante ok questi sono i tre casi in cui un'opera è in pubblico dominio quella di cui abbiamo parlato finora è la B cioè quando sono scaduti tutti i diritti di privativa su di essa e quando dico tutti i diritti tendo tutti i diritti anche quelli connessi pensate a un film quello che dicevo prima non è sempre facile sapere quando i quattro soggetti sono morti e sono passati 70 anni quindi c'è un sito che si chiama outofcopyright.eu simpatico che vi fa alcune domande il tipo di legislazione il tipo di opera e vi dà alcune indicazioni se l'opera è scaduta o meno secondo lui non è affidabile al 100% però è già un bel un bel un bel passo avanti l'unica cosa che vi dà una garanzia è il parere di un legale esperto in questa materia che fa una verifica ad hoc ahimè non c'è altro modo se no dovete un po' assumervi il rischio è vero che sulle opere letterarie siamo abbastanza tranquilli cioè ogni primo gennaio festeggiamo fra virgolette il pubblico il public domain day cioè ogni giorno ogni pubblico scusate primo gennaio entrano in pubblico dominio nuove opere perché? perché dal punto di vista delle opere letterarie assolutamente scritte da un unico autore tra nei casi che abbiamo visto prima però quest'anno era scaduto Saint-Exupéry che è quello del piccolo principe infatti se trovate se fate caso negli autogrill il piccolo principe ha 99 centesimi a un euro versioni da case editrici sconosciute mai viste perché? perché è scaduta l'esclusiva prima era una case editrice sola che poteva farlo sono scaduti non tanto tempo fa d'annunzio dell'Edda Pirandello cioè stanno scadendo nomi mentre Montale Ungaretto la gente lì la gente ha ancora un sacco di durata Picasso qualche mese fa SIAE ha fatto una multa tra i 3.000 e 4.000 euro ad un'agenzia di Torino che aveva organizzato una mostra e aveva fatto il catalogo di una mostra di Picasso e il catalogo con le opere senza pagare la SIAE ha fatto farle foto e ha fatto il catalogo SIAE è multa perché? perché non è scaduto non è perché tu hai in gestione le opere per quei 5-3 mesi della mostra vuol dire che tu puoi fare quel cavolo che vuoi perché comunque dal punto di vista del diritto d'autore i suoi parenti ancora per un po' di anni hanno diritto ad essere remunerati e quindi vi chiede l'autorizzazione multa ok? per farvi capire quindi però in quei casi appunto ripeto quando sono autori ben definiti e in quell'opera c'è il contributo di un unico autore al massimo due persone è abbastanza facile vai a vedere la data di nascita su Wikipedia calcoli 71 anni per sicurezza perché potrebbe essere un anno in più e sai che l'opera è caduta in pubblico dominio in realtà c'è un sito che ogni primo gennaio ci aggiorna su quali sono le opere cadute in pubblico dominio e lo vediamo lì un po' più complesso quando le opere invece sono contributo di tanti tanti soggetti come i film va bene le altre due opzioni sono il public domain by law cioè quando è la legge che stabilisce che è un'opera di pubblico dominio a priori nella legge italiana c'è un solo caso che è l'articolo 5 che dice che i testi i testi degli atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni dello Stato sono fuori dal diritto d'autore ovvero un esempio le sentenze bravo ottimo le sentenze per noi giuristi sono un'opera di ingegno importante la sentenza è un'opera creativa importante perché comunque il giudice a volte scrive delle cose anche di un certo pregio intellettuale ci sono dei giudici che è meglio non leggere altri che invece ci insegnano il diritto e quindi noi avvocati leggiamo le sentenze per fare i nostri pareri per fare i nostri atti giudiziari e sarebbe il colmo che il giudice vantasse un copyright sulla sentenza caspita la sentenza è messa in nome del popolo italiano in quel momento il giudice non sta esprimendosi come Mario Rossi dottor Mario Rossi giudice presso il tribunale di Torino ma come popolo italiano le delibere dei comuni le delibere delle asle non lo so tutti i documenti ufficiali quella roba lì non è diritto d'autore e nessuno vi può dire no non riprodurla quindi documenti ufficiali sono riproducibili sempre è l'unico caso in realtà il diritto americano ha fatto un passo molto più coraggioso e ha detto che tutte le opere anche creative quindi non solo documentazione le opere creative realizzate col finanziamento del governo federale sono di pubblico dominio quindi voi trovate ad esempio la foto di Obama che c'è su Wikipedia che è la foto ufficiale che lui fa all'inizio del mandato fatta dal fotografo ufficiale della Casa Bianca quella roba lì è pubblico dominio by law lo dice la legge americana non è che devo andare a vedere quando è morto il fotografo se è opere documentazione no lì c'è un articolo della legge del copyright act americano che dice che quella roba lì essendo stata fatta da un fotografo incaricato dal governo federale è pubblico dominio le foto degli aerei da guerra non lo so fatte dall'ufficiale di Marina che ha fatto la foto sulla porta aerei quella roba lì è pubblico dominio che sia creativa o meno non ci interessa perché lo dice la legge americana però sono casi sempre sempre abbastanza ristretti sono eccezioni quello del governo americano è il passo più coraggioso attenzione parlo del governo federale non cadete nell'equivoco cioè il governo della California o del Texas hanno invece il loro copyright e col cavolo che glielo tocchi ok però c'è una terza opzione che è il pubblico dominio io lo chiamo volontario non so pubblico dominio artificiale anche nel senso che ci sono degli strumenti questo qua si chiama CC0 è fatto da Creative Commons non è una licenza è proprio una sorta di dichiarazione di rilascio in pubblico dominio è di più di una licenza cioè la licenza è dopo lo vediamo meglio l'autore che ci sta dando delle autorizzazioni qua è l'autore che rinuncia che promette di non esercitare più i suoi diritti d'autore i suoi diritti d'autore connessi in generale quindi è come se lui dichiarasse di essere morto da più di 70 anni paradossalmente no? quindi fa cadere in pubblico dominio un'opera prima della sua caduta naturale perché decide di fare una sorta di donazione così per il bene dell'umanità per la cultura alcuni lo fanno prego se un autore dice io voglio rinunciare al profitto economico e alle altre che sono magari connesse però voglio che pur donandola in tutti i medi però voglio che questo è esattamente il senso delle creative commons se hai pazienza oggi pomeriggio facciamo un'ora solo di quello l'ultimo finale della domanda però non voglio che venga annacquata non voglio che venga spezzettata divisa questo è esattamente il senso delle licenze creative commons di cui parleremo oggi dettagliatamente però qua siamo su un altro piano qua sta rinunciando a tutto quindi non può più fare condizioni quelle sono condizioni cioè ti do x a condizione che tu fai y esattamente il senso delle licenze creative commons qua lui sta dicendo io rinuncio ai miei diritti poi se qualcuno ha seguito bene la parte iniziale dirà ma i famosi diritti morali che sono irrinunciabili è infatti una fregatura per noi questo è un cc0 è uno strumento che viene dal diritto americano dove i diritti morali non ci sono e quindi effettivamente un cc0 vero e proprio in Italia non si può fare perché si si può fare però se andiamo a toccare quell'aspetto reputazionale l'autore può dire ma sai cosa ti dirò che quella roba lì non mi sta bene quindi io esercito un diritto morale quindi un vero cc0 però un cc0 dal punto di vista diciamo dello schema cioè col cc0 tutta questa roba qua viene rilasciata irrevocabilmente lui ha rinunciato per sempre all'esercizio di questi diritti gli rimane forse quella colonnina che era quella dei diritti morali quindi questi sono i tre casi in cui un'opera entra nel pubblico dominio oggi pomeriggio vediamo i casi in cui si parla di libera utilizzazione cioè casi in cui il diritto d'autore c'è ancora però la legge prevede che il diritto d'autore debba ad alcune condizioni farsi da parte perché ci sono cose più importanti il diritto di cronac che diceva prima altri casi che dopo vi spiego meglio e poi i casi in cui invece l'autore che per sua scelta dice queste cose le concedo liberamente che è esattamente quello che diceva lui alcune cose sì cioè l'uso non commerciale ad esempio oppure tutto ma non la modifica che era l'esempio che faceva lui quella roba lì si fa attraverso le licenze di creative commons che vediamo oggi pomeriggio adesso siamo è giusto all'uno grazie siamo perfettamente in orario vi chiederei per favore alle due di ricominciare perché io e lui dobbiamo prendere un aereo per Sassari stasera e quindi perché domani replichiamo a Sassari e quindi per favore alle quattro e mezza dobbiamo assolutamente chiudere se no perdiamo l'aereo grazie a dopo grazie 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 grazie